Allora, benvenuti in We Have a Dream, è bello perché all'inizio la gente non vede, perché si collega dopo un po', è capito nella diretta, però quelli che lo vanno a rivedere, lo rivedono. Hai capito qualcosa di quello che ho detto? Stai parlando con me? Con chi sto parlando? Mi stavo tormentando, non so tre ore che dici crop, flip, chop, chip. Perché sto facendo le cose, prontissimi, buona serata a tutti, ciao picchi e tenaci, buona serata, benvenuti. Quindi, We Have a Dream questa sera è molto particolare, perché? Perché ho un artista che è nella storia della musica italiana, eravamo anche amici, ma intanto da quanto è che non ci vediamo? Non siamo più. Si sa mai nella vita. No, perché ti mando a quel paese un sacco di volte? No, 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 abituati. No, no, abituati. No, ma da quanto è che non ci vediamo di persona? Di persona saranno cinque, sei. Perché hai tanto tempo? Perché tu sei a Bologna e io sono in Brianza. Ah, per quello. Se fai un studio in Brianza vengono da te tutti i giorni. Va bene, va bene, va bene. Sigla We Have a Dream. We Have a Dream. No, no, no... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu eri un principe. Allora dovete sapere che lui era un principe. Lo chiamavano il principe perché era un fighetto. Perché è partito tutto da degli amici che quando sono tornato a Modena dopo il successo hanno detto che avevo la puzza sotto il naso e ha cominciato a chiamare il principe. Quindi erano offesi. E' davvero un complimento. Che ricordi? Allora poi dopo buonasera a tutti puntata speciale con Maurizio Vandelli presente in studio e allora vediamo un po'. Allora Maurizio ricordati che sei di Modena sempre Togo. Ah su un Togo se? Togo lo dite anche a Bologna? No Togo è roba di vostro di Modena. Venivamo apposta a dipingervi il nero giallo, giallo nero il netturo. Voi ci pregavate una secchia rapita? No ecco. Allora tu devi sapere che all'esame di maturità viene un professore che era presidente della sessione, io faccio la quinta ragioneria e dice Ah ci avete rapito la secchia eh? Mi avete rapito la secchia. Adesso ve la faccio pagare. Così è esordito. E io ho guardato e ho detto che cazzo gli ha rapito il secchio questo qui? Cazzo ma chi sa più della secchia rapita? Tu non sai della secchia rapita? No dopo l'ho imparato perché mi sono informato perché era una roba di universitari no? Era ignorante fin da piccolo. No ma che cavolo è che ne sa più. La secchia rapita lo sanno tutti che la secchia era pita. Che cos'era la secchia rapita? Non lo so era una roba termine. Vabbè era nella ghirlandina sta secchia. Avevano e quelli di Bologna andate a sapere e i modenesi sono venuti a rapire il fittore che è il simbolo della gogliardia. Sì in genere dipingevamo anche il Nettuno con i colori del Modena. Va bene va bene facciate questa roba qui. Lo sono fatto anch'io. Allora Maurizio hai preso lezioni di canto o sei autodidatta? Sono autodidatta. In che senso lezioni? Ma no lezioni di canto. Io ho cominciato solo a suonare la fisarmonica. Sono andato a scuola di fisarmonica che ero un bambino di 5-6 anni. Ed era una scuola che mi piaceva molto ma a un certo punto la maestra, la Bononcini, tanto per non fare nomi, ha deciso di fare uno spettacolino in teatro. E io che ero un bel biondino eccetera mi ha messo in prima fila questa fisarmonica, a un certo punto partiamo col pezzo eccetera, mi comincia a guardare la maestra e mi dice smetti di suonare, smetti di suonare, smetti di suonare che stoni. Quello che stonava era quello di fianco a me, io mi sono messo a piacere e ho mandato tutto il paese. Quindi hai subito un trauma tu. Ma non ero io che stonavo con la cosa fisarmonica. Era un trauma quando a un bambino gli dicono, a me mi hanno detto subito che ero stonato e io sono stato traumatizzato. Beh che sei stonato è verissimo. È verissimo. Sì. No invece io suonavo bene la fisarmonica, era quel pirla lì che la suonava male. Allora. Sono offeso. Beh certo è da qui. Allora intanto partiamo da oggi. Oggi? Ah oggi? 29 sett... Eh oggi? No oggi. Ma emozioni garantite. Questo è il, diciamo, un libro che tu hai scritto. Ecco. Come ho scritto? Ah certo, no, beh, l'ha scritto fisicamente Massimo Cotto. Però dentro c'è un cd, ok? Un cd. E poi di qua c'è un altro cd. E questo cd è karaoke. E con le basi, io non volevo chiamarlo karaoke ma furuoke perché ho parlato con un mio amico giapponese che mi ha detto che karaoke significa senza orchestra. Noi ad esempio anche nel concerto facciamo furuoke che vuol dire con tutta l'orchestra perché suoniamo dal vivo con i testi scritti in questo mega schermo, video. Cioè, lo spettacolo che tu porterai, allora lui sarà al Duse di Bologna con Emozioni Garantite, questo è, partiamo subito con queste cose, lui sarà a Bologna con Emozioni Garantite il 12 maggio al Duse, questo è lo spettacolo, canta Battisti, Emozioni Garantite, eccolo qua, 12 maggio al Duse. Ecco, come ti esibisci tu? Vestito. Vestito? Bene, bene. Come mi esibisco? Cosa vuol dire? Allora, tu credi di aver detto una battuta? Cioè, tu vuoi fare la spettacolo e credi di aver detto una battuta? Perché? C'è un gruppo che ha successo nel mondo che si presenta nudo. Ma non sono un po' nostario. Ah, ecco, cioè, con il culo fuori, con le tettine fuori, con lo scotch sui... Quasi moneskines. Sì, quasi quelli di scotch e poi sono. Quindi tu che dici vestito è già una notizia. E come suoni tu? Come ti esibisci? Mi esibisco con un gruppo di cinque musicisti, oltre me, sei, e con questo grandissimo schermo dietro, due piattaforme, su questo schermo scorrono tutti i testi delle canzoni, quindi la prova più grande l'ho fatta a Pescara, 10.000 persone, 10.000 persone in piazza Salotto, che è la piazza più bella di Pescara. Credimi, se io scendevo dal palco davanti allo spettacolo se ne accorgeva nessuno. Perché cantavano tutti come dei... Stai attento a quello che dico io. No, è che hanno ragione loro. Perché col fatto che abbiamo iniziato a cazzeggiare, non avevamo fatto il check-up di tutto e andavo in onda con il microfono del computer. Invece adesso andiamo in onda con il microfono. Avete sentito quello che abbiamo detto prima? Sì, hanno sentito. Che l'ho detto? Non lo diciamo, ma hanno sentito. Ah. Perché sai che abbiamo cazzeggiato, no? Caro Gray Ronny. Allora, quindi ci sono sei persone. Siamo in sei sul palco, questo grande schermo con tutti i testi. In più, nello schermo ci sono ben cinque artisti, chiamiamoli artisti tra virgolette, che cantano insieme a me, solo sullo schermo, non dal vivo. Poi ci sarà anche... Come canta anche di conoscere? Cioè io canto delle canzoni dove c'è Reali che fa un duetto con me, dallo schermo. Ah, ma quelli che hanno il duetto qui? No. No, no, no. No, qui c'è Do di Battaglia. Non l'hai mai visto tu sta cosa? Prima devi prepararti. C'è Do di Battaglia, è qua inciso, c'è solo Do di Battaglia. Io lo chiamo motocicletta, ma non si chiama motocicletta, si chiama il tempo di morire. Sai quante volte usa la parola morire mogolli, in quei brani qua? C'è da tocc... Eh sì. Da tocc... Sai che il tempo di morire, no, quello è motocicletta, sai che emozioni, sai che lui ha scritto quella frase, io ero al chat all'inaugurazione del chat di Mogol e di fianco a me avevo Riccardo Fogli. Allora mi viene in mente, perché viene citata emozione, dico ma pensa te che lui ha scritto guidare a fare i spenti nella notte. Una delle frasi più grande. Per vedere se è poi così difficile morire. Morire, tanto morire. Bene. Allora io ho detto ma pensa, secondo me c'è qualcuno che ha impersonificato questa canzone e l'ha fatto. E Riccardo Fogli mi ha detto io? Tu? Sì, dopo che l'ho sentito ho spento di fare e ho guidato. E io l'avevo fatto una volta, deluso da una ragazza, da Sassuolo a Modena, ma l'ho fatto per pochi secondi, mi sono reso conto che non era il caso. Deluso da una ragazza? Da un uomo pensavi? No, no, ma come deluso da una ragazza? Però non era, era, cioè tu eri già a Vandelli. Forse, non mi ricordo. E beh, emozione è uscita che tu eri già nell'equipo. Ho detto che l'ho fatto prima. Beh, emozione, cioè per ascoltare. Ah, prima che lui scrivesse la canzone. Ah, ecco. Comunque Giulio ha scritto dei testi delle canzoni di Lucio, che se le avesse scritte oggi non passavano. Motocicletta 10 HP e tu a 16 sì. Allora, però, tu capisci che se gliela dà la motocicletta è bruttina la cosa. Eh sì, in effetti. No? Ma anche tu hai fatto delle canzoni... Pomeriggio ore 6. Pomeriggio ore 6. E' molto giovane, ma per questo non sarà che io debba attendere la sua maggiore età per uscire la sera e poi fare quello che vogliamo noi. Censurata. Censurata. La la Rai, sì. Esatto. Tu non la puoi cantare adesso, ma non c'è la chitarra, giusto? No, non c'è la chitarra, ma non voglio cantare con te. No, ma no, ma io ce l'ho. Ti entro? Ce l'ho e la faccio vedere. Che cosa? Pomeriggio ore 6. Ah, ce l'hai? Certo che ce l'ho. Ma ce l'hai quando avevo 12 anni. No, nel 1988, a casa tua. A casa mia. Certo. Fa sentire? Guarda. Facciamo quella dove ho fatto il testo io, storia vera. Sì, 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 sì. Lei è molto giovane, ma per questo non sarà, che io debba attendere la sua maggiore età, per uscire la sera e poi fare quello che vogliamo noi. Pomeriggio tragico, quando il padre scopre che tra noi non c'è amor platonico, come usava i tempi suoi. Ora lui la tiene in casa, ma al pomeriggio non c'è mai. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle sei. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle sei. Era una filastrocca molto semplice di un fatto realmente accaduto. A chi? A chi? A me. A te? Ho scritto un testo, pochi che ne ho scritto, ho scritto questo. Poi traduzione dall'inglese, perché il pezzo era un pezzo tradizionale, mi sembra. E questa ragazza era la tua ragazza? Una delle tue ragazze? No, era un flertino di età giovanile. E i genitori naturalmente ti vedevano molto di malocchio? Di malocchio, vaino. E allora cosa succedeva? Succedeva che dovevamo vederci di nascosto. E facevate l'amore al pomeriggio invece che la sera, così lei aveva la parvenza di... No, perché poi dicono, sai, non lasciamo uscire le ragazze di sera. Perché di pomeriggio? Facciamo un po' di moralismo. Dai. Dai, comincia tu che mi scappai a ridere. E non fate uscire le ragazze di sera. Neanche di pomeriggio. Poverini, no. Non è possibile. Mi crescevo. Avevo una voce un po' d'accastrato lì, eh. Sì. Ma attenzione, attenzione. Questa cosa qui che c'è venuto a casa tua, è accaduto subito dopo, vent'anni dopo. Chi è vent'anni dopo? Il programma... Chi è vent'anni dopo? Non si ricorda un cazzo. Il programma dove io... Ah, il primo, prima delle rotonde. Prima delle rotonde. Dove io sto costretto a venire. Sì, ma hai rotto i coglioni appunto che sono dovuto venire perché sennò mi sbucavi dal cesso. Devi venire. Sì, ed è stato bello perché uno mi hai detto che dopo, vent'anni dopo, eccetera, ha incontrato il tuo personaggio e ha detto, Maurizio Vondelli, tu non hai il diritto di non cantare più. No, non è stato così. È passata la 500 Roma. Ah, Maurizio, devi cantare i mortacci tu. Ma no. Ma perché tu l'avevi smesso? Io l'avevo smesso, me l'ho rotto le balle. Ma perché? Perché è un po' lunga. No, lunga. È un po'... Cioè uno smette. Sai quando capisci che c'è un giro dietro tutto, che ci sono dei maneggi? Sì, i maneggi, quelli dei cavalli. Che ci sono, che organizzano tutto senza che tu sappia niente, che fanno tutto loro, che tu non vari più un cacchio a livello organizzativo, ma... E allora lì ti girano. I coglioni. Oh, come sono carino. Hai visto come sei bello? Ancora. Allora, vediamo un po' di fare con te una storia e poi arriviamo a Battisti, perché tu adesso... Scusa, ma tu nel tuo spettacolo che fai, che farai il 12 a Bologna, fai solo Battisti? Io faccio la maggior parte Battisti, però ci metto le canzoni più famose dell'equipe. Quali? Quali? Tutta mia la città, io in mente a te, 29 settembre, fatalità è sua, nel cuore e nell'anima, l'angelo blu, quella è la bella. Nel cuore e nell'anima è suo anche nel cuore e nell'anima. Non è colpa mia se io ho preso un segreto. Hai imparato le parole di l'alcore e nell'anima. Se te lo ricordi? Io sono sul palco, la gente non lo vede questo dalla platea, dalla galleria, sono pieno di gobbi. Sì, sì, sì. Tutta gente che cammina. Io vi volevo far vedere. Allora, questi sono alcuni 45 giri che ho dato qua, dopo li commentiamo. è, allora guardate, questo è, ti tengo in mente, Auschwitz, bang bang, quedate, chiedate. Ostrega, cos'è quedate? Questo è spagnolo, io penso. Ma chiedate che cazzo è. Che cazzo ne so. 29 settembre. La fine del libro, cominciano solo, la fine del libro è Time is on my side, dei Rolling Stones. Sì. Ok. Bello. Di questo parliamo dopo, perché sei andato a Sanremo con l'Utodale, questo ne parliamo dopo. Un giorno tu mi cercherai e l'antisociale. Questo era per andare a Sanremo, l'ultimo 45 giri che abbiamo fatto per l'etichetta discografica, la prima, che ormai era andata un pochino in marmellata e per andare a Sanremo mi inventai questa cosa che era l'antisociale, che era il retro e ci siamo andati a fare questa bella complicata e dietro, per non dare una canzone troppo importante, feci cantare Victor l'antisociale che era una chitarra e una bella. Che sono un antisociale, non mi importa mai di niente. Non mi importa del giudizio della gente. E Kipo 84, questo è Sei Giardinato. Ora puoi tornare, Sei Giardinato. No. Ah no, Sei Giardinato. Don't Worry Baby, è la Dendada. Non ti ricordi le canzoni delle tue? No, perché non riconosco questa copertina. L'ha rifatta, sì. No, non ce l'hai quella copertina lì? No. Non ce l'ho. Beh, ce n'ho una versione un po' più brutta, te la regalo se la vuoi. La più brutta la tieni tu, scusa. No, è la più bella. Che regalo è? Ma scusa, ma secondo te io ti regalo. Sono identiche. No, ma sai cos'è? Io non tengo roba mia. Allora non ti regalo un cazzo. Ecco. Allora cominciava così. Cioè uno fa, vieni a fare televisione da me. E va a far culo. Allora, cominciava così e di qua tutta mia la città. Sì. Bello questo. È sbagliato perché tutta mia. Cominciava così. Sì, no, giusto. E il retro è tutta mia la città. Sì, sì, sì. Poi ha avuto più successo questa? No, tutta mia la città. Ha avuto più successo tutta mia la città? No, tutta mia. Ti sbagli con resta io mentre te. No, no, tutta mia la città ha avuto più successo di cominciava così. Ma cominciava così nel retro? Vuoi chiederlo a me? Se vuoi chiederlo a me, cominciava così nel retro? Tu dici? Sì. Sì, forse. Lato B. Sì. Ah, perché c'è prima sopra. Vabbè. Pomeriggio re sei che è quella che abbiamo ascoltato adesso. Sì. Poi c'è, questo è, ora puoi tornare prima di cominciare. Maurizio Romano, Franco e Alfio, quattro ragazzi dotati musicali, tenaci, decisi a imporre la loro espressione musicale che rappresenta in sostanza il credo della loro giovinezza. Sono saliti alla ribalta del successo in un tempo breve. Questo successo è meritato perché i ragazzi dell'equip sanno lavorare sodo. Sono modesti. L'ho scritto io, eh. L'ho scritto tu? Ah, vengo. Sono modesti. Dov'è? E soprattutto sanno quel che vogliono. Nelle loro esecuzioni musicali vi è qualcosa di istintivo, il caldo che avvince anche quelle persone a cui non interessa il linguaggio dei giovani. Il loro ritmo cristallino e mordente riesce sempre a dare vita e freschezza alle sovrastanti voci, ora appassionati, ora sottili, e tutto intorno l'aria si riempie di gioia. E ti viene voglia di ascoltare ancora e ballare perché l'equipo 84 crea e dice qualcosa di nuovo. Ma che effetto sta cazzata? Non è firmato, no? No. Ah, questo è bello. Nella terra dei sogni e dietro c'è un angelo blu. No, un angelo blu davanti, terra dei sogni. A vero. B-side. Bang, bang e Auschwitz. Il lato A era bang, bang però. Il lato A era bang, bang. E il lato B era Auschwitz. Poi c'è. Resta io e mente te. Resta e mente te. Questa qui è una cover, non una cover, ma è una copertina. Vida che non conosco. Tu conosci questa. Resta e mente te che conosci questa. E se me la fai, sì. Questa è l'originale. E questa cos'è? Questa è sempre l'originale. E' un falso. Non è un falso. Non mi dico leggere cosa c'è scritto dietro. No. Che magari è quello che ha scritto per la cagata là. Maurizio Vandelli, venti anni. Te lo leggo. Vent'anni. Metri. Sessanta anni fa. Metri 1,86. Sono cresciuto. Sono sempre stato 1,88. Anzi. Forse mi sono nati maschi. E' il più giovane del complesso in cui svolge mansioni di chitarrista. Mansione. Il suo sport preferito è dormire. C'era un altro che non si può dire molto, però... Però vorrebbe avere un cavallo per usarlo come mezzo di trasporto. Io? Sì. Ma che cagata. Lo farà, dice, quando avrà risolto il problema del parcheggio. Non è ancora trovato uno per cavalli. Ma cos'era un comico questo? Vuoi sentire cosa dice degli altri? No! Poi c'è la canzone che preferisco in assoluto. Nel... Scusa. E' la terza volta che metti... Nel cuore. E' per far vedere. Nel cuore e nell'anima. Questa è una canzone. Capolavoro totale. Quattro parole dice tutto. Nel mio cuore e nell'anima c'è un prato verde che mai... Che mai poi... Nessuno mai ha calpestato. Nessuno. Se tu vorrai conoscerlo, cammina piano. Perché anche un respiro... No, nel mio silenzio. Nel mio silenzio. Anche un respiro può fare l'uomo. Io sono pieno di gobbi sul palco. Con i testi ovunque. Sì, sì. Quella volta non c'avevi gobbi. Quella volta a casa tua. Eh no, appunto. E adesso io te lo faccio vedere. Allora. Se quando mi fermi mi dici hai sbagliato il testo a piovo. Certo. Certo. Come no. È bellissimo. È bellissimo per te. Per me magari un po' meno che mi becco dell'aceno. No, beh ma scusa. Allora. Allora. Nel cuore e nell'anima. Ok. Allora. Allora. Ero vestito in bianco. Avevo una tuta bianca. Io sono andato. Io sono andato. Perché dopo che ha fatto finalmente vent'anni dopo. Ok. Che l'ho convinto. Convinto. Stalker. Perché non c'erano le denunce agli Stalker allora? Ma se no. Guarda che io ho le prove firmate da te. Dove mi ringrazio per averti riportato a cantare. È dopo. Perché dopo? Perché prima non ne avevo voglia. Tanto avevo fatto per riuscire a staccarmi dalla musica e fare un po'. Perché la musica stava cambiando. Sì. La musica. Erano cambiate tutte le regole, le cose. Non mi piaceva molto. Fare dischi. No. La musica sempre. Ho amato la musica. Ma fare dischi, fare televisione non mi piaceva più. Quindi cosa ho fatto? Sempre nell'ambito creativo mi sono messo a fare spot pubblicitari per cani e porci. Sì. E quindi sempre creativo ero. Poi un giorno arrivo io. Arrivi te a rompere le balle. Per carità. Grazie. No. Esatto. Io arrivo e ti costringo a cantare. Tu vieni a una rotonda. Adesso costringere è un po'. Eh. Beh però se non c'ero io non avresti mai ripreso. O forse più avanti. Non dico mai ripreso. Forse più avanti o mai ripreso. Di sicuro diciamo. Poi succede qualcosa. Aspetta che. Ti metto colore. Ecco. Succede qualcosa di importante perché a vent'anni dopo. Ok. Succede una cosa importante che viene Mario Capanna. Ah. Il mio amico Mario. Che era il leader del 68. Sì. E notare com'è l'ingresso. Sai lui era politico. Aveva l'accompagnatore. Allora io avevo dei casini inenarrabili. Perché tu eri quello più calmo paradossalmente. Perché avevo i giganti che all'ultimo momento mi vengono a dire che si sono incazzati di nuovo tra di loro. Non vogliono più partecipare al programma. Perché poi i gruppi erano un casino tenendo insieme i gruppi. Quindi avevo quel casino lì. Avevo tutti questi che tornavano dopo tanto tempo. C'era il kishen. C'era di tutto. Arriva il segretario Mario Capanna. Dice il signor Capanna vuole sapere a che ora c'è e le domande che vengono fatte. Perché eri abituati così i politici. E io gli dico sì un attimo. E lui mi veniva sempre dietro. E io c'eravo i giganti con Papa. Io sto provando ma questo Sergio è che con il mitigato. Cercavo di mettere insieme tutto perché era un casino quel programma. Era un esperimento pazzesco. Il signor Capanna vuole sapere anche ora. Allora ci avevo detto alle 10.23 gli chiedo. com'era il 68. Ah bene. Ed è andato via. Ma mi sono inventato. Dopodiché lui si è divertito la mattina il programma. Addirittura è venuto. Questa è una foto. È venuto sul palco. Eccoti qua. E mentre tu cantavi 29 settembre. Lui faceva il giornale radio. Sai che non me lo ricordo? Certo. Ti ricordi che io gli ho detto tu fai il giornale radio. E di le cose che allora il giornale radio non diceva. Lui non gli pareva vero. E allora si. La contestazione. Andate tu. Giovani. E tu. Ed era fantastico la cosa lì. E quindi tu fai quello. Quindi io quando vengo a casa tua. Tu non è che avessi sperimentato le tue canzoni. Tanto che non cantavi. Questa forse è la prima volta che tu cantavi le canzoni. Non mi ricordo neanche. Cioè non è che mi ricordo tutto. Ho passato la vita a cantare. Per cui non è che tu mi dici. Sai. Giovedì 12. Ecco. Del 32. Però. Però. La cosa bella è che nel cuore e nell'anima è una canzone al quale io sono legato. Lo so. Un giorno me lo raccontassi anche. Sì. Ma non mi ricordo. Io ero innamorato di una ragazza che si chiamava Doriane. Era un montecuto delle Alpi. Però lei stava con un altro. E io non è che avessi successo da giovane. E lei capì che ero molto sensibile e mi mandò in regale il disco 29 settembre. Perché dice tu sei quello di questo disco. Infatti io mi identificavo in quella canzone. Quindi per me vedere tu che canti per me. Quella canzone dopo tanti anni. Hai detto 29 settembre. Nel cuore e nell'anima. Vedere tu che canti questa canzone. No. Mi grattavo. Sì. Per me era una roba fantastica. Sentire e tu mi sbagli il testo cambiando totalmente il significato. Si sarà incazzata anche lei. No. Lei non sarà più vista. Hai capito? Sentite quando. Io ve lo vado a correggere perché non si può sentire. Però. Nel mio cuore. Sofferto. Nell'anima c'è un prato verde che mai nessuno ha mai calpestato. Nell'anima c'è un prato verde che mai nessuno. Nell'anima c'è un prato verde che mai nessuno. Se tu vorrai conoscerlo. conoscerlo. Nell'anima c'è un prato verde che mai nessuno ha mai calpestato. nessuno ha mai calpestato nessuno. Nell'anima c'è un prato verde. Se tu vorrai conoscerlo il mio prato verde cammina piano perché nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore. Ok. Vedete come li violenta lui. Quando lui ha degli... Non è una questione di violenza. E tu che è violentato le canzoni. Non puoi cambiare il testo. Cambia tutto il senso. Ti rendi conto che cambia tutto il senso? Sì ma non ti incavolare. Ecco allora vai. è importantissimo perché è la canzone di una persona che dentro sai quante persone è venita la batteria chi lo sa me la rifai bene ancora? nel cuore e nell'alma ma me la canti tu? no io non posso non posso ti mando fuori sono fuori completamente io sono stonato mi piace molto nel mio cuore nell'anima c'è un prato verde che grazie c'è un prato verde che mai c'è nel tuo cuore nessuno ha mai calpestato nessuno cioè sei vergine totalmente nei sentimenti cioè ha mai calpestato mai se tu vorrai conoscerlo se tu vorrai conoscerlo anzi conoscerlo cammina piano e cammina piano tu perché qui c'è l'accordo cammina piano cammina piano complimenti per questa canzone mi sento un verme grazie se non c'era lui non veniva una cosa così idiota no no non nel senso questa la taglia benissimo nessuno si mi sono sempre divertito un casino porca puttana io meno con te però insomma mentre uno canta che arrivi uno che lo ferma dicendo hai sbagliato tutto mio col tuo ma quella oriana lì oriana d'oriana d'oriana eh vabbè ma non te la dava più quindi no ma non me l'ha mai data ma porca puttana ma scusa ma tu cioè snaturite cioè nel tuo silenzio era una botta di altruismo ma che era una botta di altruismo ragazzi nel tuo silenzio allora allora vedi vedi il mio suo questa registrazione Maurizio Vandelli Red è davvero bellissima comprivi da entrambi no vabbè che chicca fantastica allora non si chiamava chicca si chiamava d'oriana no ma la chicca è così comunque questa era nel cuore nell'anima canzone meravigliosa che però con la foto di di chi è questa foto Mario Schifano questa è la foto di Mario Schifano sì e come facciamo e anche 29 settembre anche questa è una foto di Mario Schifano questa qui tutta tutta ma l'ha fatta di fronte a uno specchio che no era la carta da parati di casa mia sai erano i tempi di LSD e robe di genere allora a me bastavano queste robe qua che andavano fuori in testo mi accontentavo mi accontentavo bello questo Mario Schifano fra l'altro tu conoscevi Mario Schifano anche perché Mario Schifano stava con Anita Pallenberg no con chi stava lui no 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 andiamo a chiarire anche tu ci stavi tu con Marita Anita Pallenberg sì Anita Pallenberg era la donna di Brian George che poi gliel'ha portata via prima no 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 sì però quando lei una mattina portandemi la colazione a letto perché scusa Anita non c'è più neanche lei c'è più nessuno andiamo avanti un po' parliamo di questo portare la colazione mi dice Maurizio io devo dirti una cosa dico dimmi vado a Londra dico bello dico magari vengo anch'io no no devo andare io per una cosa va bene quando torni e lei mi fa non torno una strameravigliosa bellezza come lei che ti dice non torno ti gira e allora poi un giorno ero a casa di amici dove c'era quel famoso attore di colore di cui ti parlavo fuori onda anche lui quella sera tra parenti lui suona a campanella a telefono alla medagina e arrivò e disse arriva grande amico di Rolling Stones cosa grande amico di Rolling Stones chi lui ha detto così arriva grande amico di Rolling Stones io ho capito amico si apre la porta arriva dentro Anita dopo tre anni io non la vedevo e entra saluta a tutti e fa così anche a me cosa è successo insomma dopo puoi andare e dire a chiarimmo pensavo non ti ricordassi di me io ho detto sto cavolo e lei in quel momento era con Brian Jones con Brian Jones che tra parenti li passò tutta la sera così a massaggiarmi la coscia mi sta massaggiando la coscia e poi dopo ci frequentavamo c'era c'era sei stato tutta la sera a massaggiarmi la coscia chi era il fantasma Brian Jones massaggiava te me ah io credo volete pari scusa diamo un po' i soggetti lui passo la serata perché lui aveva lette Brian Jones si ma non diceva sì diceva yes e passava la serata questo cavolo di mano sulla gamba non te lo so dire non te lo so dire mi ravanava la gamba va bene Brian Jones mi parlava in inglese io l'inglese lo mastico abbastanza benino però non sono stato molto attento perché il mio problema era perché era entrata Anita e non mi aveva salutato bene quindi lui poteva dire quello che voleva che io ero lì che pensavo adesso come la recupero c'è questo qui c'ha Brian Jones in casa che gli cipolla anche la gamba vedi che viene fuori viene fuori il vero Red voi non immaginate cos'era Anita parlemelo allora faceva sparire 200 Brian Jones una volta sì ho capito però questo qui pensa c'è un Rolling Stone ma c'era Anita a Parlemelo ma che Rolling Stone c'ha il Rolling Stone perché è stato quello che ha fondato i Rolling Stone che poi Mick Jek l'ha fatto fuori io non lo sapevo che li aveva affondati lui però no l'ha affondati l'hanno affondato dopo lui il poverino in piscina oh signor quanto parte queste mirabili dove hai ma non è mirabili cazzo c'è Brian Jones cioè tu tu hai incontrato anche Keith Richard Keith Richard addirittura allora tu sai che quando parli di qualcuno di grande poi te ne racconto uno su Battisti dopo che mi stanno girando le balle quando parli di qualcuno di grande c'è sempre qualcuno se mi metto così sembra che io abbia un corno invece vedi non è un corno questo non è un corno vabbè ti stavo dicendo cosa stavo dicendo ah quando parlo allora io frequentavo Anita sì Anita a un certo punto dice Maurizio devi andare via da questa casa perché domani arriva Keith Richard quando già aveva mollato Brian Jones però magari domani ti chiamo ti telefono sei al solito posto sì sono lì nell'hotel non c'erano i telefonini te lo presento eccetera vabbè insomma me lo presenta vado là addirittura passiamo la giornata a suonare tu e Keith Richard io e Keith Richard a casa a suonare insieme cosa faccio vado ci sono quelli dell'equipe io sono stato alla giornata con Keith Richard si va bene io col Papa e venivano fuori tutte queste robe ci credeva nessuno è certo cosa succede che Anita sa che suoniamo in un locale che si chiamava orco cane non mi ricordo come si chiamava Roma dove quella serrice erano cane da Moravia Amici eccetera in camerino entra Keith Richard e Anita Palle quei quattro deficienti pace all'anima loro sono rimasti quelli dell'equipe tutta sera perché non ce l'avevano creduto è venuto Keith Richard e Anita a trovarci in questo locale e sono stati in camerino a parlare con me e c'è tra gli altri erano tutti gli ippopotami sbadiglianti al bar c'era Mick Jagger con allora era la cantante la dai che lo sai Marianne Faithful e Brian Jones sotto al palco che batteva il tempo di quello che suonavamo sul mio piede questa è stata una serata in quel locale con i Rolling Stones con i Rolling Stones a me sono venuti a trovare Keith Richard e Anita sotto c'era Brian Jones che batteva il tempo sul piede al bar ecco bossignoria in tutto questo racconto non dice che lui dei Rolling Stones non ne fregava niente perché lui preferiva i Beatles sì sì non ne fregava niente ma a parte che la giornata che ho passato con Keith in casa la trasmetterò anche in Inghilterra questa roba no ho passato sta giornata con Keith Richard a parte ho messo un'ora e un quarto a dire ma come hai accordato lui metteva le dita non so come lui accordava la chitarra neanche aperta era un'accordatura tutta sua che esiste se vai a leggere ci deve essere anche scritto per cui lui faceva un accordo io no 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 l'orecchio assoluto e non capivo che andavo a cercarlo perché lui faceva una roba strana e io seguivo dopo quindi devo dirte che a parte questa ora persa nel capire dove metteva le mani per salare la chitarra non è che mi sono proprio divertito non che fosse una pipa l'ha raccontato dell'abbraccio di Hendrix chi è l'ha raccontato ti chiedono l'ha raccontato dell'abbraccio dell'abbraccio no scusami Hendrix ti ha abbracciato mi ha abbracciato mi ha quasi baciato ma dove a casa mia e la madonna col flit Hendrix è venuto a casa tua anzi no e la ciccone perché lui mi piaceva dire così tanti anni fa e la ciccone allora ti spiego c'era Hendrix al Piper di Milano che era poi quel locale nel parco vicino a Piazza Castello veramente io non vado a sentirlo non mi piaceva andare a sentire concerti di Ali che poi alla fine passavo il tempo sai come vabbè a firmare l'autografo ma sì poi ero da solo non avevo voglia di andare sì perché in quel periodo tu eri più famoso di Hendrix in Italia in Italia forse no no di sicuro non lo so comunque sono a casa mia arriva alle due di notte e sono ancora bello sveglio chi è andato a sentire il Victor con la sua fidanzata che era un'americana di colore Yvonne e a un certo punto alle due di mattina suona il telefono ring io rispondo e c'era Victor che fa oh che fai vieni da noi dico ma sei scemo alle due di mattina vengo da voi ah beh allora ti perdi sai è qui con noi Jimi Hendrix alla X di Hendrix io ero già in macchina che corre cioè il figlio non conosco Ed e sono andato a casa loro ho conosciuto Hendrix che praticamente si trasferì a casa mia a casa mia conobbe una ragazza che frequentava casa mia che era Ines curatolo c'è un grande manifesto dove Jimi e Ines in bianco e nero un po' presi dall'alto gli erano per mano per New York lei con la maglietta bianca ha scritto Black Power conobbe si mise con Ines e restò a casa mia l'80% in camera con Ines e il resto con me allora una sera gli feci sentire cosa facevo io si mise a suonare la chitarra facemmo quasi una James Session si fa per dire insomma springe sbronche springe sbronche a un certo punto quasi per provocarlo il finale di nel ristorante di Alice io avevo copiato in malo modo devo ammettere una sola sua allora gli faccio sentirne il ristorante di Alice dato che lui aveva l'aria del tipo burbero allora parte arriva la sola finale lui l'ascolta dico adesso mi tiro un cazzotto nei denti alla fine del ristorante Alice mi abbraccia e mi ringrazia come se fosse stata una citazione la verità certo questo è l'abbraccio di Jimmy pensa che non c'erano i telefonini io non ho la foto neanche con te no perché tu hai video già ma i telefonini non c'erano quando tu eri ancora red e non grey non c'erano i telefonini e guarda che una porta una sfiga ho conosciuto delle persone saldine penso aver avuto un telefonino come ricordo pensa se c'ero io con le telecamere che documentavo tutto Andy Warhol Jerry Malanga a casa mia che telefonava Andy Warhol Andy Warhol a casa tua ci siamo visti fuori a casa non esattamente a casa mia è venuto Alan Gisberg Alan Gisberg non è colpa mia Alan Gisberg è uno della bigenergia quello che ha fatto The Hole Alan Gisberg era quello che ha scritto The Hole da cui Cucini ha copiato Dio è morto sì perché Alan Gisberg ho visto elementi migliori della mia generazione ho visto la gente della mia età andare via è copiato pari pari da Alan Gisberg pari pari va cipiano ispirato fortemente ispirato vabbè ma è un po' soldo adesso Gucini non ti sento Maurizio raccontaci di quando hai incontrato i Beatles e le Zeppelin i Beatles qualcuno l'ha incontrato dunque allora ti racconto quella delle Zeppelin le Zeppelin non li ho mai incontrati ecco le Zeppelin no no ecco dove avete venuto fuori mi ha scritto uno ah no le Zeppelin no non li ho incontrati i Beatles i Beatles li ho incontrati a strati cioè sono andato un amico mio olandese che spesso veniva a casa mia a casa mia perché quando vivevo lì via Bodoni era diventata una comune per amici artisti ognuno passava la voce c'era l'altro un po' un po' come come Ashbury dei Grateful Dead a San Francisco che arrivavano tutti nella casa dei Grateful Dead e questa non la sapevo comunque diciamo la tua casa era diventata il punto ma qui era anche un negozio sì ma non c'entra niente il negozio venivano a casa nostra perché a casa nostra potevano avere la loro camera cioè c'erano tante camere tutte erano così eravamo ancora qualcuno dell'equip c'era ancora qualcuno si era fidanzato era riuscito dalle balle e venne chi venne? uno dei Beatles no hai detto parlavano dei Beatles e delle Zeppelin no non c'entra niente nella comune perché ti ho detto della comune? parlavamo dei Beatles sì vabbè non c'entra niente allora ero a Londra hanno ragione hanno ragione ha ragione Dolovan allora questo olandese dai volevo tagliare quelli che hanno vissuto agli anni 60 non se li ricordano per forza lui fumava le banane ok vai avanti questo olandese questo olandese era venuto a casa mia mandato da qualcun altro si era piazzato in una camera stava lì ho scoperto molto più tardi quando non veniva più che era un grande contrabbandiere d'oro però fa niente credo insomma mi dice un giorno vado a casa da dei miei amici molto interessanti per te che fai questo mestiere a Londra vuoi venire con me dico chi vado a casa di Simon e Maraica Simon e Maraica erano due musicisti pittori poeti facevano tutto ed erano quelli che avevano progettato c'è chi dice che l'avessero pitturata anche loro la Rossoe di John Lennon insomma erano molto amici di John Lennon e di tutti i Beatles andiamo in questa casa loro a Londra che era una specie di garage c'era un tavolino al centro e tutti i divani intorno e al muro c'erano 300 strumenti etnici di tutto il mondo a corde insomma andiamo in questa stanzone dopo un po' c'era molto fumo non so da dove venisse ma era era strano questo fumo insomma eravamo tutti un po' gnaus insomma c'era sto fumo e sta stanza e pian piano ognuno prende uno strumento sai io loro erano molto bravi c'era la Maraica avevano erano due percussionisti meravigliosi cominciamo nasce una James Session poi questo fu con tutti gli effetti parte sta James Session improvvisatissima io avevo un chioto sai cos'è il chioto è uno strumento giapponese cine non mi ricordo nemmeno ha delle note molto corte ma molto sonore belle ed era nata sta cosa poi c'era qualcuno che sedeva qui con una chitarra accompagnato andava via eccetera non c'era dovuto ne siede qua eccetera e mentre io ero lì ho questo con la chitarra qui che non avevo nemmeno visto cominciare a urlare perché mi guardi così mica ero io che urlava e capisco che è una donna perché urlava urlava come una bestia allora una così e solo io accordo e allora io con sto chioto mi fermo di suonare e in un perfetto inglese purtroppo girandomi e io me la ricordo all'allentatore girandomi dico chi è quella troia non ti dico forse peggio che rompe i coglioni c'era John Lennon alla mia sinistra che guardando sorride e mi fa my wife mia moglie sorridendo però quindi o era d'accordo con me o non aveva capito quel cazzo che avevo detto sono le cose della vita troppo belle ci sono delle robe che mi sono successe che poi ci sono scritte nel libro in quel libro ci sono scritte queste cose perché a me piace raccontare il peggio a me piace ridere sorridere sorridere mi piace l'ironia e l'autoironia queste sono le cose che mi piacciono di più quindi figura di M con il signor John Lennon che però mi ha sorriso quindi ho salvato il culo beh vabbè allora ti racconto ti racconto di Eric Clapton che in quel periodo era appena entrato nella droga pesante e riceve una telefonata di John Lennon dicendo vieni a Toronto che faccio il primo concerto con la mia band ti voglio come chitarista Eric Clapton chitarista in cream blind face parte parte con l'aerea arriva a Toronto dove deve suonare con questa cosa qui quando è sul palco di questa perché non fanno prove perché lì era tutto James quando è sul palco hai capito sente in prima unità arriva questa qui che squittiva e si vede c'è il filmato e Eric Clapton che guarda mezzo fatto e dice ma do cazzo sono capitato detto così in romanesco no si capiva chiaramente in inglese l'avrò pensato beh ma guarda c'è un video dove c'è John Lennon Chuck Berry è dietro lei che tira degli urli della maloscola sì dove lui a un certo punto fa degli occhi per dire chi è questa proprio così c'è un video dove c'è lei che urla allora torniamo a noi torniamo a Battisti allora dunque vediamo un po' altri dischi tuoi poi vediamo gli altri nel quarellano ne abbiamo visto questo l'abbiamo visto questo qui cos'è questo il ristorante mercante senza fiori che disco è questo? c'era Thomas Gagliardone era una strana il sapone la pistola la chitarra e altre meraviglie con chi è la batteria? con chi è la batteria? chi è questo? Mike Shepstone ah quello dei Rocks dei Rockes ah perché non c'era più Alfio Alfio era un attimo andato in villeggiatura in galera perché l'avevano trovato con un tocchettino di Ashish tra l'altro una volta mi raccontaste era la prima volta che lo prendeva sì sì credo che sì sì da quello che sapevamo noi l'aveva fatto quasi per metterci in pari con gli altri non ti dico chi noi ma te? no io insomma ma perché allora quanti grammi aveva? 20 grammi 10 grammi mezz'altro non lo so e l'hanno messo dentro in galera sì era appena andato in galera all'alterchiare poco prima e poi il secondo credo c'è stato Altri che purtroppo saluto che non c'è più ma fate il regalino il giorno mio del compleanno e se n'è andato quasi a dirmi e adesso so cazzi tocca a te è vero perché delle che ho guardato 4 sei rimasto solo tu addirittura anche Romano Morandi sei mesi fa sette mesi un anno se n'è andato Alfio Vittor Franco Romano guarda che ore sono guarda che ore sono in basso ho capito sì e quindi l'hanno arrestato e lui poverino ma quanti giorni è stato in galera è un mesetto un mese di galera o due se li hai fatti tutti due mesi di galera ecco e cosa succedeva in un gruppo come l'Equipo 84 che famosissimo abbiamo avuto abbiamo avuto il divieto totale assoluto della RAI di fare televisione sì a patto che cioè nel senso solamente se avessimo cambiato il nuovo e io avrei la grande idea di mettere nuova Equipo 84 ci sono cascati come delle pere nuova Equipo 84 che lo vuol dire infatti guarda ah no Equip qua c'è scritto non c'è scritto nuova vabbè nuova Equipo 84 se no non facevamo nel ristorante di Alice qui siamo in Alice Restaurant in periodo dell'Alice un anno Clinica Fior di Loto SPA non c'è scritto no non c'è scritto SPA vero titolo Clinica Fior di Loto Società per Azione meglio questo cos'è questo Freddy's Equipo 84 Liberi di Amare è un disco doppio questo ma questo qua è una roba del 15-18 forse il retro del primo liberi della prima canzone che abbiamo inciso che era l'inno del Modena questo era il retro devi svegliarsi un mattino e se c'è canzoni casa mia va bene cosa guardi il culo della Vanda della mia amica Vanda come il culo della Vanda è Baldanno tutti avevano portato mogli fidanzate figli cavolo Baldanno era da solo e ho trovato la mia amica cioè nuda ti pare un culo vestito quello? no mi sembra nudo infatti ma se non se ne sono accorti allora chi? quando hanno visto questa copertina ma no sentivano la musica mica guardavano le copertine è male vabbè no è male il culo della tua mi fa bene Goodbye my love non so cosa sei questo disco era vedete piccolissimi piccoli piccoli qui guarda qui guarda qui che roba come sono piccolini guarda guarda questo è Notte senza fine se credi a quello che Notte senza fine non mi sceta lasciami il sto suon penso papà e mamma e papà non lo saprà mai e mamma non lo saprà mai a me piace leggere le note d'epoca su un retto di questo 45 giri c'è scritto no ma no che scrivono delle cazzate hanno chiesto ai ragazzi di Kipo 84 di definire il loro complesso che si presenta al pubblico con questo primo disco è il primo disco è il primo disco papà mamma vabbè Kiko Kiko il batterista il batterista minimo ha spiegato che loro si considerano il complesso senza complessi i Beatles i Rolling Stones gli Orbit 4 gli Animals e tutti i numerosissimi complessi del genere che in Inghilterra hanno successo strepituoso li lasciano infatti del tutto indifferenti con o senza Beatles dicono noi i capelli ce li teniamo così perché? perché ci piace la loro maniera di suonare di interpretare la musica è assolutamente personale aggressiva e dinamica ma anche piena di estro e di spirito sono loro i primi a divertirsi alle loro folli trovate si c'è qualcosa di buono e il resto da fare Maurizio Vandelli detto il principe nato a moda nel 30 marzo 44 chitarra solista e canto se vuoi dire quanti anni ho? no che te frega 79 questo è il primo album dell'equipo 84 hai visto? bello guardate guarda dentro quattro nomi come non lo sto a leggere no però c'era il poster dentro pazzarola che puttana il poster te lo dico è bella questo vale credo un bel po' ah si? non dirlo no il più perché? perché poi me lo vendono allora la fine del libro e fa bene time is on my side mi fa bene and my baby is gone se credi in quello che sei felice tired of waiting you erano tutte cover tired of waiting you stanco di aspettare se crede quello che dici sei felice ah tired ora puoi tornare go now papà e mamma va bene comincia a suonare le chitarre far meglio goodbye my love prima di cominciare la dendada sei già di un altro non è la dendada è la dendada la dendada sei già di un altro don't worry baby quel che ti ho dato tell me disco importante questo però però devo dirti che questo è un capolavoro stereo keep pensa quanto per me era importante il periodo l'ascolto della musica fu il primo che fece fece risaltare la parola stereo sì perché tutti i dischi erano mono in ascoltare guarda che bello dentro c'era nel cuore e l'anima ladro ladro è di Battisti yes dall'amore che nasce l'uomo è di Guccini Guccini nel ristorante Alice è di Jimi Hendrix no eh non lo so di chi è è a Ricky non mi ricordo gli autori 29 settembre Battisti un anno i traffic traffic un angelo blu i un angelo black no era i modi blu no non erano i modi blu si erano come cavolo si chiamava va bene va bene tutto è solo colore e il ragazzo per un attimo il tempo e il ragazzo Lucio Lucio Battisti intermissioneri nella terra dei sogni questo è un ragazzo vabbè poi c'è una serie di raccolte dell'equipo 184 questo sacrificio cos'è sacrificio? sacrificio fu l'ultimo album dell'equipo si casa discografica Ariston e Lucifero disse sacrificio ma cos'è un 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 concept album? e l'hanno fatto come id molti non tutti hanno detta che era una musica id non mi viene la parola era qualcuno ci aiuti ci avevi Bibi Ballandi come segreteria artistica minchia posso dire minchia si puoi dirlo certo era un musica ma chi ha scritto le canzoni credo parte io Vandelli di Enrico De Luca Vandelli 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 è roba tua quasi tutta tua bello questo è un bel disco questo è un bel disco in più mi hanno ciuffato ciuffato o dirubato una canzone ma non mi ricordo chi è l'artista che mi ha rubato qual'era? che se c'è se c'è me l'hanno copiata pari pari hai fatto causa? no ok equip 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 e poi c'è un disco al quale sono affezionato moltissimo questo ah yeah questo questo è la copertina e ha fatto Bombi il mio amico Bombi c'è a casa l'originale tu c'hai l'originale e Bombi ah un milione di euro te lo vendo no poco due tre si è un bastardo Bombi Bombi qui ha preso spunto da storie dello spazio profondo invece di disegnare lui che era il protagonista di storie dello spazio profondo da cui Lucas ha copiato Star Wars perché Star Wars è stato copiato da qui questo non lo sapevo vale di più quindi otto milioni di euro e quindi lui ti prendo neanche in considerazione guarda vedi vedi questo è io ho l'originale tu hai l'originale con la carta sai quella con i puntellini si 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 bene sono contento dove abiti che cominciano qualcuno ciao saluta ma sorta qui Cavaliere Cavaliere poi dopo c'è amo lei un giorno in più perdona bambina era lei mi amiamo un giorno della vita te collo me la vecchio mio giovedì let it be di Lennon si era un gioco che hanno registrato bene poi dopo diciamo succede che Maurizio Vandelli dopo vent'anni dopo fa la rotonda sul mare e vince la rotonda sul mare sul fatto di vincere la rotonda sul mare era una una Giulietta Spider non te l'ha andata mi hanno dato una Giulietta Sprint rossa pitturata in bianco te ne ho inculato eri tu no 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 io non contavo lo sai che io ho bisogno lo so ma ti volevo avvisare che è il premio tu mi hai regalato il disco d'oro che ti hanno dato giuro certo sei scemo no non sono scemo me l'hai regalato tu fammi leggere adesso voi vedete il retro di sto disco che voglio leggere quello c'è scritto ma c'è anche la muffa sopra ciao Red allora non ho vinto grazie a te ma grazie di avermi fatto partecipare a tutti i costi quindi non era questo 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 è il disco della rotonda sul mare il disco d'oro perché non ho vinto ho vinto ma tu riesci riesci a capire l'italiano dalla rotonda sul mare hanno fatto un album ok che ha vinto il disco d'oro e allora ti hanno dato il disco d'oro perché sei uno dei partecipanti e quello che ha vinto la rotonda sul mare ok bene tu questo disco d'oro giustamente l'hai regalato a me perché se non c'ero io tu non avresti partecipato perché ti ho costretto vedi c'è scritto grazie di avermi fatto partecipare a tutti i costi sottolineato poi vai avanti con il cuoricino Maurizio Mandelli ma dice davanti dice caro Red ciao Red non ho vinto grazie a te cioè come per dire perché tu non avresti mai messo che hai vinto poi hai vinto cazzo cosa hai vinto con 29 settembre con 29 settembre la Giulietta ma frega te la Giulietta hai vinto ma grazie di avermi fatto partecipare questo è importante valore 120 lire ma che te frega ma perché c'è la muffa dagli la pulita è che se lo pulisco viene via anche la tua scrittura perché hai scritto sul vetro tu è per quello che c'è tutta quella muffa è certo perché nel frattempo hai capito beh ma sopra e sotto vabbè sopra e sotto ma viene via vedi bisognerebbe aprirlo non so restaurarlo ma sai non sei Picasso se lo riscrivo uguale in un vetro pulito dopo mi fai una bella allora allora ringrazio il cuore Maurizio che è un grande muricista ne ricordo la canzone 29 settembre la canzone dei miei cari genitori che purtroppo non ci sono più 29 settembre una canzone ecco allora 29 settembre iniziamo a parlare di Battisti perché tu stai facendo questo spazio dove in effetti credo che solo tu possa portare oggi in giro Lucio Battisti credo diciamo chi altri potrebbe portare in giro Battisti non lo so chi dimmi uno non mi viene in mente niente però non è che non faccio pirla non mi viene in mente chiunque che sappia un po' chi può portare in giro Battisti oggi non lo so zucchero non c'entra niente zucchero con Battisti come voce mi piace ma ho capito ma chi ha vissuto probabilmente i Dick Dick forse che erano amici anche loro sì sì erano amici tu hai prodotto fratti i Dick Dick io ho prodotto i Dick Dick quando Lucio non li produsse più prima li produceva Lucio fino a senza senza luce sì fino lì ho prodotto Lucio poi io viaggio da un poeta l'isola di White tutte queste robe ho prodotto io però vendo casa vendo casa l'avete fatta insieme a Lucio no non l'abbiamo fatta insieme l'abbiamo registrata per provare l'arrangiamento lo spirito eccetera io e Lucio a casa mia su un bel Revox di allora e ho ancora il Revox col nastro ma io credo che il nastro si sia tutto incollato ho paura di farlo andare scusa se il Revox si è incollato è andato e appunto ma se non si fosse ma se non si è incollato e tu non lo fai andare perdi un'occasione per? per digitalizzare quella roba lì e? renderla pubblica con? no no non mi piacciono queste cose no perché? no perché no non mi piacciono quindi tu sei della scuola di Miles Davis che aveva delle registrazioni con Jimmy Hendrix di cui non erano i di cui non erano autorità di Jimmy Hendrix quando Jimmy Hendrix è morto lui ha bruciato i nastri tu sei di quella scuola lì? beh no no perché ce l'ho ancora perché non ho ancora bruciato niente però chissà magari il mio figlio un giorno può tirarlo fuori il tuo figlio tuo figlio può tirarlo fuori ma se aspettiamo ancora un po' cazzo lo dovresti fare tu adesso vedo dai quando poi ti chiamo ti faccio vedere va digitalizzato ma secondo me c'è una pasta che frolla lì di nastri ma che te frega guarda lei sta facendo dei miracoli sta digitalizzando la roba con i nastri incollati oh signor vuoi mandarla a casa mia? mia moglie no non ti mando a casa tua a lei però dico che si può fare c'è una storia? non c'è una storia e perché allora ti manda a casa tua? perché? perché sta bene qui ce n'è da fare non ti preoccupare capito? quindi ha le prove John Lennon e Clapton le hanno fatte sull'aereo con le chitarre elettriche lo racconta Lennon di quel concerto c'è proprio un DVD ufficiale e io ho e sì Yoko è proprio una rompivalle di più nessuno può portare Battisti se non i vecchi musicisti vicini musicalmente come tu vicini musicalmente beh certo chi c'è rimasto? io tra parentesi eccetto due canzoni tutte le canzoni che ho inciso in questo CD in qualche maniera io ero con Lucio per dirti su che ne sai tu di un campo di grano che non mi ricordo mai i titoli io ho fatto gli effetti le cose ah tu eri in studio con lui sì sì ma ho suonato le chitarre con lui e poi cioè le uniche due dove non ho partecipato un'avventura allora un'avventura addirittura ci sono due arrangiamenti quello vero e uno che avevo fatto io perché lui mi chiedeva oh Mauri fammene fammene arrangiamento all'Equipo 84 io gliel'ho fatta poi lui l'ha cantata dopo aver ascoltato insieme il risultato e ho detto scusami Lucio forse ti sei dimenticato chi è in coppia con te sa Remo c'era Wilson Pickett c'era Wilson Pickett dico e sta roba che cosa serve deve essere più busso fa oh c'hai ragione quindi il mio arrangiamento fu messo da parte e velocemente perché doveva andare veloce fu contattato Reverbini eccetera per fare l'avventura con i fiati eccetera ok allora poi dopo perché no allora perché no e amarsi un po' non ho partecipato ma le amo devo dire amarsi un po' la compagnia la compagnia ho suonato con lui nel disco sì ma chitarre lui veniva anche nei miei dischi a suonare cioè eravamo sempre insieme praticamente c'era un periodo dove eravamo insieme fiori di rosa fiori di pesco fiori di rosa fiori di pesco fiori di pirla fiori rosa fiori di pesco fiori rosa fiori di pesco sì adesso non mi ricordo cosa ho fatto ma in molti brani c'ero io certi i cori il tempo di morire motocicletta anche tutti eccetto questo qui sì emozioni non ero a suonare ma erano in regia con le lacrime agli occhi come tutti quando finiva la registrazione sì non l'avete mai sentito l'avete registrato solo una volta lui non mi ricordo questo della volta mi sembra che fosse anche un pelo di più però lui era dentro sti quattro paraventi con i vetri sì con la chitarrina cantò il suono alla chitarra fico piazza al basso io ero in regia e la fece poche se non una poche volte e aiuto che canzone è? da paura da commuoversi ma mi sono commosso molte volte cantando questo cd sì su ad esempio la luce dell'est e Giulio non scriveva dei testi scriveva delle sceneggiature di film sì beh voi avete interpretato Vettiroi Stem perché è la prima canzone film vado a parlare a diventare 10 ragazze 10 ragazze tutti sì 7 e 40 cazzo le fate tutte io vorrei non vorrei ma se vuoi capol'altro capolavoro come può non scoglio mi ritorna in mente anche questo miri 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 umanamente uomo il sogno umanamente uomo il sogno all'inizio del concerto è solo suonata e ci sono delle frasi da leggere poi inizia il concerto e finisce con umanamente uomo allora veniamo a noi ah perché fino adesso ma fino adesso eravamo venuti a loro no facciamo facciamo visto che si parla di 29 settembre guardiamo a te che mi fai 29 settembre allora ti stavo dicendo prima cosa ti diciamo che è un disastro parlare di qualcuno di molto conosciuto perché ad esempio Lucio ok a me sono saltati addosso dicendo cos'è sta storia che hai scoperto Lucio io non ho mai detto d'averlo scoperto ma tu dai retta a quello che dicono su internet vai avanti allora l'idea del giornale radio ieri 29 settembre è di almeno 10 persone e di chi è l'idea? io mi ricordo Lucio che mi guardò che mi disse oh bella st'idea del giornale radio oh bellissima si vede che gli avevo riportato qualcosa di qualcun altro che diceva gli altri 10 persone quindi il giornale radio ha di idea tua non sono più sicuro ma credo proprio di sì ma certo perché a forza di sentire le bugie degli altri uno ci mette in dubbio dice forse non c'è rappetti lui entrò in quell'ufficio perché lui voleva firmare un contratto editoriale quello che gli interessava poi io non so non ho mai io non sono uno curioso so che dopo era Christine Leroux era come si chiamava le edizioni Christine Leroux non mi ricordo firmò un contratto con Christine Leroux questo non lo so però le prese Christine la vendetta la ricordi ma lui non voleva cantare all'inizio no 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 lui voleva scrivere per gli altri ok lui non voleva assolutamente cantare poi tutti gli dicevamo devi cantare però tu una volta mi hai detto che lui andò sul parco credo il cantagiro non mi ricordo più e scese tu mi hai detto aveva due occhi diversi no allora mi chiese di accompagnarlo non cantavo io mi chiese di accompagnarlo e non cantagiro sì era la sua prima volta e cosa cantava? cantava credo testicolo pulito balla linda cioè testicolo pulito io l'ho chiamata così una volta per me lui quella canzone si chiamava testicolo pulito balla linda testicolo pulito va bene ok anche lui ormai la chiamava così perché un giorno gli ho detto fai le canzoni porno c'è arrivato dopo cinque minuti fantastico che critico vabbè credo cantasse testicolo pulito se non acquazzurro non mi ricordo esattamente però credo testicolo pulito e prima di sedere sul palco sto così dieci minuti prima di sedere sul palco c'era la gradenata per sedere sul palco paura no ma ansia sicura cioè succede ancora a me adesso certo no ma lo so tutti attaccato no ciccio una volta ogni tanto ci davi per sapere tu invece quando smetti di bere non cagare io non bevo mai bevuto allora cosa fa? vegetariano antisanguigno no non sono più vegetariano non mangio carne vegetariano? no non mangi carne sei un non mangio carne vabbè allora si agrappò per me al mio braccio ed era un po' terrorizzato insomma paura c'era a un certo punto disse Lucio Battisti andò su questi gradini mi guardò anche spacca tutto andò sul palco la gente urlò insieme a lui cantò insieme a lui fece dei grandi applausi scese quella scala era un altro aveva due occhi diversi e mi disse questa famosa frase che ricorderò tutta la vita a Mauri non mi ferma più nessuno infatti non ha fermato più nessuno e scusa ma se lui aveva tanto successo perché ha fatto solo 22 concerti? credo che avesse questa un po' fobia del palcoscenico della gente credo che avesse queste cose perché io e Lucio stettimo eravamo molto insieme nei primi periodi fino a poi ci si chiamava ci si vedeva chi no ha? eh non mi ricordo io sono allergico alle date ci chiedono una data a me quando mi chiedono quant'è che hai fatto 29 settembre? non lo so tutti se non mi ricordo non mi ricordo vabbè comunque fino a un certo punto all'inizio addirittura abitò anche a casa mia mi prese tutti i fulari indiani che avevo ah è già che si mette il fularino lui i miei mai più visti e poi dopo pian piano si fece la sua vita fino a che un giorno sparito come mai secondo te? non ne ho la minima idea probabilmente era diventato Lucio Battisti e non voleva più avere intorno degli amici che magari in un momento di defiance alla presione gli chiedessero Lucio mi scrivi una canzone e non voleva trovarsi probabilmente davanti a questa situazione questa è una mia supposizione proprio boh fantasiosa però può essere poi dopo non averlo sentito per niente vinci la rotonda sul mare con 29 settembre colpa tua sì e mi arrivò una telefonata a Dren ti risolto il telefono e fa Amauri su Lucio questo queste sono le parole esatte non c'era il registratore Amauri su Lucio questo è quello che intendo io per rivisitazione parlava del cd ciao grazie clic non mi ha fatto neanche dire Lucio ciao niente zero più sentito fine ultima telefonata ma era così di carattere lui quindi lui ci ha visto mentre facevano la rotonda sul mare e beh direi di sì in ogni caso qualcuno o forse qualcuno gliel'avrà regalato per comprarlo era un po' tirchiotto ma un tirchiotto di una simpatia incredibile il ristorante trovava delle scuse da pisciarsi addosso da ridere per scappare al momento ma c'era da morire partiva auguri faceva gli applausi e andava via e tu stava morire e non capivavo perché e con il caffè guarda un caffè non sono mai riuscito non ti ha mai pagato un caffè niente ma perché secondo te cosa ha avuto un'infanzia povera che la povertà gli è rimasta dentro credo che fosse un gioco ormai tutti gli avevano dato questo soprannome il tirchione almeno noi del gruppo andava a mangiare io quando producevamo i dig dig quando io producevo i dig dig veniva anche lui per rendere casa eccetera andava a mangiare nel ristorante era aperto eccetera lui scappava però a metà di mille lo faceva bene senti ma lui cioè io ti devo dire la verità allora io non ho conosciuto Lucio Battisti sono stato un fan di Lucio Battisti perché le sue canzoni sono qualcosa di meraviglioso dopo parleremo anche di il 29 settembre in maniera particolare però quando mi chiedono ti dispiace non aver intervistato Lucio Battisti io dico no sei un pirla perché perché era di una simpatia ho capito era di una simpatia però vedi io l'ho visto speciale per voi quel prama di Arbore dove lì lo criticavano un po' e lui improvvisamente si trasforma sulla critica lui era divenne divenne hai picchiato contro a un bidone sulla critica era abbastanza aspetta lui disse Nero Rosetto si ma è uscito proprio il ragazzo di Rieti un po' il burino no? perché Rieti e Sanburini? no però quando viene a Rieti l'hai detto tu per fortuna che prima di iniziare il programma abbiamo parlato del uso delle parole che bisogna stare attenti che ormai ti fanno un culo così se devi pesare le parole prima di dirle allora io ho fatto così quando viene a Rieti pesate le angurie cosa devo dire? no però allora allora burino nella eccezione dell'etimologia della parola eccezione eccezione è uno fuori Roma veniva chiamato burino uno fuori Roma c'è anche in Asterix ok uno fuori Roma il pirla è una roba per cucinare sì ok comunque al di là di cose poi si mette al pianoforte e fa un uomo spingeva un carretto e gridava gelati un uomo spingeva un carretto e gridava gelati ed era un'altra persona cioè la persona che parlava prima e la persona che cantava era un'altra persona era completamente dire non è vero no lui era uno degli uomini più autoironici ironici e positivi che io avessi mai conosciuto nella vita è stato un divertimento totale vivere insieme per un certo periodo fantastico poi ha cominciato a scrivere Lucio qui Lucio là non si può intervistare non si fa intervistare manda a pancù forse non aveva voglia o forse bei furboni che dite queste robe sapeva già che c'era qualcosa sopra di lui che lo dominava tipo una malattia ma da giovane giovane? no da giovane no da giovane non aveva mai fatto questa roba quando è che ha avuto la malattia e quando non si faceva più intervistare che dicevano tutti che era diventato ma non si è mai fatto intervistare quando si è fatto intervistare Lucio? dove le trovi le interviste di Lucio? solo speciale per voi io l'ho visto beh ma sì beh intervistare per modo di dire partecipavo un sacco di televisione dai cantava e basta lui arrivava cantava andava via come allora attenzione ti vorrei ricordare che tu non sei venuto ma Bandiera Gialla è stato il primo programma televisivo che ho fatto io dove i cantanti di anni 60 parlavano perché una volta non vi intervistavano no non ci volevano far parlare avevano paura di quello che potevano esatto quindi voi voi andavate canzonissima abbiamo abbiamo Gianni Morandi ma non dicevate una parola cantavate basta andate a Sanremo e adesso abbiamo e veniva fuori e poi fuori dai coglioni quando mai eviterebbe con 4 marzo 43 che avevo un dirigente Rai qua che diceva Vandelli se lei non fa la parte censurata e canta quella originale qui in Rai allora qual'era allora stiamo parlando ragazzi saltiamo di pali in frasca ma ne vanno e così accorciamo perché tra un po' no ma che preoccupare le persone sono sono no io non le persone no su youtube c'è un'intervista di Lucio di circa 50 minuti ma sono curioso di andarla a sentire vedi che dici sempre delle cazzate vabbè mi sapete Gianni Bersanetti mettimi il link allora o come si chiama veniamo che cazzo Lucio Mitta vieni qui guarda non guardare i commenti 4 marzo 1903 vedi che ti sono così 4 marzo 1943 tutti pensano che sia solo la canzone di Lucio Dalla invece eravamo in coppia con Lucio Dalla eravamo in coppia Sanremo siamo arrivati terzo terzi io addirittura ho ancora il trofeus vendo per un milione di euro il trofeo di Sanremo di terzo posto terzo posto perché ce l'hai tu in Lucio Dalla che non ce l'abbia Lucio Dalla non mi sembra giusto cioè eravamo uguale fra l'altro 9 equipo 84 perché avevano arrestato ah si avevano arrestato qui c'era Franzi Cioccio la batteria Franzi Cioccio che avevano poi fatto la PFM e Baldam Bembo che erano i quelli in quel periodo lui ok e allora e allora niente registrammo la canzone a un certo punto Lucio che mi chiamava diceva come fai ah ho sentito la tua versione del clarino molto bello io per non mettere il clarino ho messo un basso tubo gli ho detto sai quello può e lui mi dice insomma un po' pesante però bella idea c'era cascata a Sanremo ci rimase male quando sa cosa che gli avevo messo il clarinetto anche tu hai messo il clarinetto lui il violino lui il violino è vero e tu hai messo il clarinetto clarinetto però perché tu ti identificano quattro anni perché la data dinastica perché era sua era giusto era sua dalla pallottino era una canzone scritta proprio per le sue corde per la per la sua verve per tutto solo che il finale al posto di per i ladri le puttane sono Gesù Bambino e per la gente del porto io sono giù no per la gente del porto mi chiamo non potevo dire io sono invece l'originale era per i ladri le puttane io sono Gesù Bambino e ti stavano ma anche lui ci ha cantato la canzone e allora non si poteva beh con pomeriggio ore 6 che tu cantavi di un rapporto con una sposata no con la minorenne come con pomeriggio ore 6 lei è molto giovane ah no pomeriggio ore 6 no qual è quella della sposata come si chiama quello che tu ti fai quella sposata non importa se sei già di un altro sei già di un altro non importa se tu sei sposato che fome ne frega non importa se tu già sei già di un altro se già sei se tu sei già di un altro e poi vai avanti e dice un altro uomo con cui già sei non mi ricordo legata per la vita l'abbiamo messa prima cazzo non ti ricordi un cazzo l'abbiamo messa prima non ti ricordi un cazzo tu non l'abbiamo messa come non mi ha messa allora fammi dare un'occhiata se non l'abbiamo messa no guarda che vedo perché c'ho come le mosche lo so che vedi c'hai c'hai la nostra immagine lì allora eccola qui la situazione aspetta aspetta pulisco questo è importante social questa la riprende bene ma com'è che tu fai un'inquadratura dove sudo poi dopo un'inquadratura dove non sudo più spero che tu metti dentro quella che mi asciughi tu certo allora che schiavismo c'era questa canzone che anche qui vedi come Auschwitz prima avevamo tentato una canzone trasgressiva nel senso del personaggio noi eravamo gruppo capelli lunghi vestiti sgargianti lustrini e allora televisione già poca perché non ce ne facevano fare perché chi sono croste solite storie allora abbiamo fatto una canzone con le famose vocine diciamo per primi senza stare a pensare per primi non per primi non ha importanza che faceva e parlava di divorzio il testo infatti diceva possiamo stare bene insieme anche se non siamo sposati tutto era qua tutta la storia e mi ricordo che siamo andati sul palcoscenico al teatro San Carlo di Napoli per la RAI e un funzionario della RAI dopo aver sentito la canzone ha detto tirate giù questa massa di procina dal palcoscenico e ci ha buttato fuori tragicamente ed era circa così non me la ricorderò ecco ecco d'un tratto più non ridi e ti mancano le parole no io lo so tu non stai pensando al nostro amore noi stiamo bene insieme che cosa importa se se tu tu già sei sei già di un altro per la vita legata a lui legata a lui no era peggio cosa importa se tu sei già sposata era mica non era facile questo no ma è facile è difficile anche da fare difficile il bello è che quando noi registrammo questa cosa a casa tua era nell'88 nel tuo studio nell'88 88 35 tu eri red stai invecchiando però cazzo è la settantesima volta che mi dici grey ronny che ero rosso non so più sì lo so ero anche un po' più magro che cazzo molto più magro non era necessario non toccavi il bordo del tavolino con la panza ma non stucco il bordo del parolino guarda ti sei mai chiesto perché molti degli artisti a una certa età portano le sciarpette perché? per coprire la panza ah per quello quindi è il momento che tu compri qualche sciarpetta o pashmina vabbè comunque quello che volevo dire quello che volevo dire era questo che lui lui che? tu quando siamo tu era la prima volta che cantavi queste canzoni dopo tanto tempo sì perché lavravi perché aveva mollato esatto e io ti ho detto guarda preparati perché vengo a casa tua però tu non eri sicuro del risultato eh e allora tu dici io ho un escamotage se mi sbaglio dico delle parolacce così tu non la puoi mandare in onda e non l'ho fatto hai fatto? no sì non puoi mandare in onda certe cazzate c'era un Barry McGaugh che faceva well I woke up this morning you were on my mind you were on my mind e quanto frego perché non so cosa diceva qui Barry McGaugh ma tu cosa dicevi? io cammino per le strade e do in mente te te figa 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 culo cazzo figa figa cazzo cazzo figa culo corna figa buco cazzo che riflessi cazzo figa no non si può capito perché ti sei sbagliato e allora per impedirmi di mandarla in onda sei proprio un cretino e 38 anni dopo la mandi in onda certo certo ma d'altra parte scusa cioè allora adesso ditemi voi se lui non si merita che io gli faccia pagare certe cose chi è che dice mastonati che mandi in onda tutte le cagate guarda guarda questa allora io ti volevo far vedere una roba allora siamo andati lui dice siamo vicini a Monza andiamo nell'autodromo di Monza chiaramente a fare ma tu non ti ricordi un cazzo ma secondo me ricordo quello che ho fatto con te no non te lo ricordo ho tante cose belle da ricordare che testa allora fammi dare un'occhiata dov'è allora sotto la M Monza c'è già di un altro nel Correale ben 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 dove è Monza dove è Monza qua ecco qua allora tu mi dici tu naturalmente sei il principe fai aprire l'autodromo per noi cioè siamo andati sull'autodromo di Monza dove gira le automobili Formula 1 a fare il pir te lo ricordi o no no non te lo ricordi a provare qua la Ferrari guarda c'è andato il circuito di Monza per fare questa cosa allora adesso tu devi cantarmi Biboppa Lula qui sul circuito di Monza Biboppa Lula vediamoci perché non è esattamente un camera car è quasi allora 3 2 1 Biboppa Lula she's my baby Biboppa Lula ancora ma l'hanno cantata tutti ormai dai e beh appunto tu che non canti mai canto mai devi tornare a cantare Maurizio avviciniamoci avviciniamoci tu già hai una moto io no ah già è vero questo qui è un io non so dove l'hai recuperato questo affare qui poi nel microfono si sentirà tutto il vento si sente il vento ma tu non molto no dice di no si ma tu non sei uno da velocità beh non lo so sei uno che ti piace andar forte no che stronzo lo chiamano principe e ti credo che lo chiamano principe il principe di solito è uno allora vieni qui dicevo prima che ti chiamano principe no il principe è uno che fa vedere il fatto che ha di più e quindi tu fai vedere il fatto che hai di più no io volevo volevo un attimo umiliarti ma guarda che in fondo eh in fondo guarda che in fondo costa di più quella che questa questo eh sì tu canti tutta mia la città qui puoi dire tutta mia il mondo perché qui ti senti proprio ma tra un po' ci becchiamo un'acqua tremenda però è bello quando c'è tutta una strada puoi andare dappertutto non devi guardare avanti non devi dare precedenza ti ricordi il film punto zero guarda che siamo alla parabolica ti ricordi il film punto zero punto zero sì dove dicevano che la libertà l'ultima libertà che era rimasta l'uomo era la velocità sì è vero vai andiamo ai box dai la parabolica la parabolica allora qual è la canzone dell'equip che preferisci la canzone qual è la canzone dell'equip che preferisci cosa rispondi sei già di un altro rispondi sei già di un altro ok vediamo vediamo cosa rispondi oh porca puttana sono andato via devo rimettere allora rimetto rimetto c'è andato il circuito di Monta per fare questa cosa andiamo ai box la parabolica la parabolica allora qual è la canzone dell'equip che preferisci la canzone dell'equip che preferisco è quanto tempo ho? no adesso è forse oggi si direbbe GR1 GR1 eh sì oggi ormai la radio no no la radio va ancora va ancora la radio solo che ormai l'audio è fatto più di immagini che di audio senti noi adesso stiamo entrando ai box tu quando è che hai deciso di entrare ai box di non correre più ma praticamente l'ho deciso aspetta cosa siamo nell'88 dieci anni fa dieci anni fa continuavo ancora ad andare in giro con i ragazzi con Victor Alfio no Victor no Alfio non c'era più non c'era più con noi con Victor Franco a fare delle serate eccetera poi ho detto no perché? c'è stata una molla sì c'è una molla c'è sempre una molla che ti guardi intorno allora cosa è successo? un giorno? un giorno mi sono reso conto mi sono reso conto che il pubblico aveva calato gli entusiasmi che praticamente noi stavamo stavamo vivendo su dei ricordi e su delle stavamo speculando su un vecchio successo e la cosa non mi è piaciuta più di tanto a un certo punto bisogna essere onesti e stabilizzare che piantarla secondo me spegnere i motori? tu ce la fai? sì perché è rotto questo che mi ha detto tu non spegnerlo e un giorno bisogna decidere di smettere secondo me sì se ti rendi conto Redroni a 60 anni col bastoncino in magno che farà ragazzi vi presento il giulanduland non c'entra più niente eh non c'entra più niente cosa è successo? cioè ti rendi conto Redroni a 60 anni adesso sono qui 71 anni e non dico ragazzi il prefetto c'è lui si sforza quando è in trasmissione ma fuori dalla trasmissione c'è lui che c'ha 79 da 9 anni eh ricordamelo Pirla bella belle queste cose belle sì hai sbagliato canzone avevi detto perché si vede che volevo era un discorso di di chiusura di una cosa di apertura di un'altra non avevo voglia ma nei particolari ho sempre detto che sei già di un altro è la canzone che preferivo l'ho sempre detto poi sei già di un altro ma perché te l'ha censurata ma no perché c'eri tu cosa mi hai censurato perché per cos'era sei già di un altro non è la canzone che te l'ha censurata ma no non me l'ha censurata ma te l'ha tirato giù dal palco ho detto giù no non me l'ha censurata perché cantavamo allora sto dirigente Rai che si chiamava Donati perché cantavamo in falsetto tipo i pugili di campagna quello che avevano fatto in campagna noi quattro cappelli lunghi forse lui cappelloni eravamo a San Carlo in Napoli non ne aveva mai visti era sotto sudato che ci guardava ha fatto smettere il playback della canzone sì e ha detto la frase vera e ha detto tirate giù dal palco questi quattro finocchi però insomma bello com'è bello no bello il fatto che non ti abbia censurata la canzone perché secondo me non hai capito il testo no non l'hai capito ecco perché erano più presi dalla vocina ma è tua l'hai scritta tu quella canzone se hai giato un altro ce la devi cantare forse era una collaborazione tra me e qualcun altro quale album è se hai giato un altro è in guarda la versione bella è su 29 settembre 89 quello prima di quello no non ce l'ho ce l'hai ce l'hai ma sì è quello c'ho lo sdraio sono non ce l'ho no qui non è passato non è passato ce l'hai lì dai se già durato c'è nel 45 giri no non l'ho visto cioè vi rendete conto che dobbiamo cercare il disco per vedere chi sono gli autori di se già durato lui non lo sa ma era nell'equip giusto e quindi niente qui non c'è ma sei sicuro che non ci sia 345 dammi i 45 giri che guardiamo dobbiamo cercarsi già papamma col codato un'altra certa fine casa mia casa mia risvegliarsi un mattino se c'è liberi da mare meglio fiori di l'inca fiori di loto ristorante di alice un anno sapone la chitarra e altre meraviglie niente amante senza fiori c'è lì o no l'hai visto o no ecco ecco sei già di un altro ok ah è un recover è Don't Worry Baby esatto chi ha fatto il test italiano Ciula Ciula chi l'ha fatto il test italiano Pantros chi è Pantros uno che firmava il posto mio si l'ho fatto io come mai visto un centesimo era proprietario della Vedette perché io non ero iscritto e firmavano il posto tuo hanno fottuto così tutti i brani della Vedette li hanno fottuti tutti così anche anche Bobby Solo ha detto ma no tu sei piccolo l'arca su Vizio la firma lui ha fatto firmare un altro la stessa persona che ha fottuto Bobby ha fottuto anche me la ricorda le canzoni mie se le firmate lui è poi andato a fare una gita senza fine in Brasile non facciamo no vabbè insomma dai vabbè dai vabbè capita allora allora il 45 chissà dove sta trovatelo su Youtube sì allora andiamo avanti quindi tu adesso ecco Lucio Dalla che differenza tra i due Lucio tra l'altro erano nati un giorno di distanza l'uno dall'altro dunque in realtà io Lucio Dalla non lo conoscevo benissimo ci siamo visti 10-15 volte nella vita abbiamo fatto il bagno in piscina una volta insieme abbiamo parlato abbiamo fatto ma non avevo una confidenza con Lucio che mi potesse portare a a fare un confronto con Battisti era un grande amico io amavo Lucio come compagnia della giornata come uomo come tutto come artista stai parlando di Battisti Battisti scusa ah perché i Lucio sono due Dalla invece sì lo conoscevo benino ecco non c'era la conoscenza ma lui fece molto più successo di voi con il disco 4 Marti 43 praticamente vendete quasi solo lui adesso esagero però sicuramente certo anzi dicevano terzo Lucio Dalla con 4 Marti 43 neanche ci citavano che potato 4 non esisteva sai i cappelloni e sapevano non sono mai stati ma i cappelloni di quel tempo ma i cappelloni cioè i cappelloni non stavano bene neanche voi avete fatto il cantagiro no? sì vi pigliavano sassate? di più cioè? addirittura arrivavamo in certi posti dove ci aspettavano con dei bastoni con su delle corna con scritto andate a casa non passate di qua la cosa più bella è noi gruppi avevamo delle macchine per starci un po' comodi un po' americane noi avevamo una Chevrolet Impala scassata però era una Chevrolet Impala nera e io giravo sempre col finestrino giù perché non c'era la legiondizionata ed era estate ed eravamo in quella zona lì qual era arrivavano sassi arrivavano sassi ho visto uscire un carbonaio uno che vendeva carbone dalla porta tirano sberlone a Bobby Solo tirarlo giù con una sberla dalla macchina arrivavano sassate arrivavano di tutti però c'era caldo allora quella zona lì c'era un po' che c'era un po' di calma era una zona d'Italia centrale un po' più giù del centrale e avevo giù il finestrino e vedo sbucare dalla folla uno con un secchio dietro di noi c'era le rocks con un'altra macchina così con scelta salutare e a un certo punto vedo sbucare questo col secchio io metto il dito per alzare il finestrino e il finestrino parte così cioè facevi un tempo a passare dieci volte questo qua mentre il finestrino aveva fatto un tanto così questo mi vede me col secchio e dico adesso fa eccomi lui fa Maurizio dove sono i rocks i rockers e io la macchina dietro lui è stato nascosto a passare un secchio di piscia che alla sera arriva agli occhi rigati di sangue è stato bellissimo questo è stato veramente ma quando tu hai fatto il disco con Shell Sapiro gliel'hai raccontato che è stata colpa tua che gli hai tirato la roba non mi ricordo penso che gliel'hai raccontato tutte le porcherie che ci sono successo gliel'hai raccontato sì com'è serio sempre Shell Shell serissimo ma come mai lui l'ha presa così sul serio tutta la contestazione ma no perché lui lui ancora oggi dice ma che colpa abbiamo noi alza il pugno e io gli ho detto scusa ma alzi il pugno perché devi lanciare qualcosa e lui non mi risponde mai sì ma come è stato fare una tour insieme ma allora è stata una cosa che è venuta in mente a me e a lui praticamente in contemporanea da quello che mi dice so che io avevo già scartato l'idea di farla con Shell conoscendo il suo carattere e mi ero messo addirittura c'ho anche già la cartolina ideata eccetera con Mike e Bob però a un certo punto erano gli altri due rocks sì a un certo punto Shell mi teleframe e mi dice senti perché non facciamo un concerto insieme e io uno no un tour dico tu pensa che te lo volevo proporre poi ho cambiato idea quindi è nato in contemporanea e niente poi siamo riusciti in mezzo a molti problemi che creava lui no a scherzo diciamo che è un po' problematico sai che una volta la più bella di Shell te racconto i primi giorni entra andavamo al pomeriggio a fare il soundcheck no e noi avevamo una moquette grigio nera le casse i monitor le spie i monitor con i gobbi carchi le menate e avevamo infilato le scalette per dare un occhio veloce sotto le spie che potevamo vedere solo noi è entrato e ha detto io trovo terribile che ci siano su questa moquette dei fogli bianchi con scritto in nero ci vogliono dei fogli neri con scritto in bianco lo mandato a fanculo sono andato vero cioè lui ogni tanto vengono queste robe perché in un bar una volta arriva lì fa io lo trovo terribile perché lui partiva sempre con questo che tu in concerto che tu faccia cantare la gente io ho detto scegli è il sogno di ogni artista di ogni cantante sentire la gente lo trovo terribile io ho continuato a far cantare la gente ma scegli così sì lo so lo so lo so cosa c'è cosa c'è e allora quello che vuoi ricordare che non deve dire delle robe perché c'è le telecamere no ma no mi piace perché mi piace perché i tempi sono cambiati una volta ma scegli a quest'ora ha letto no ma una volta eravamo noi che dicevamo ai figli non fare questo non fare quello adesso sono i figli che dicono a noi non fare questo non fare quello eh ma ha preso al padre come rompi balle ha preso al me allora 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 tu fai questo ma in questo concetto che tu allora Maurizio era molto bello è stato un concetto di grande successo credo eravamo dei due gruppi più importanti della storia del rock in Italia quindi sai mettere insieme i due leader eccetera allora Maurizio io facciamo io trovo terribile facciamo facciamo Maurizio io trovo terribile che tu nel tuo spettacolo che fai adesso tu fai contare alla gente perché metti nello schermo i testi delle canzoni trovo terribile che tu faccia del tuo concerto un karaoke occhi e poi in genere risponde saranno i cazzi miei devo rispondere pensa ai tuoi pezzi che pensai miei io amo sentirlo io ho sempre detto una cosa il successo di un artista su un palco è quando la gente esce dalla festa dallo stadio dal teatro da dove cacchio sono con un sorriso da lobo a lobo cioè il sorriso così mandare a casa la gente felice è una delle cose più belle al mondo che abbiamo noi non quella come altri artisti fanno non devono cantare e non devono qui devono divertirsi loro dobbiamo regalare tutto quello che abbiamo alla gente e questo è il bello di un concerto quando quando faccio il concerto emozioni garantite il 12 maggio al Duse di Bologna che attacchè vero anch'io che riprendo il concerto bene perché voglio documentare perché ritengo poi torniamo al discorso tuo che vuoi far felice alla gente perché ritengo che sia un momento storico anche perché e diciamo la voce di Maurizio è stronzo ha la puzza sotto al naso un caghe cazzi il principe tutte ste robe ma porca puttana è un artista della madonna c'è una voce che è pazzesca ed è bravissima e sentire lui che fa le canzoni di Battisti e le sue canzoni con un gruppo e un'altra cosa siccome è un caghe cazzi sicuramente c'è un gruppo della madonna che suona perché se non si suona bene con lui se hai altri complimenti da farmi fammeli pure caghe caghe cazzi bassi e uomo bassi jen's al basso david casalino alla batteria quante ne ho detto cinque non lo so te ne ho detto uno in meno uno ti manda cagliari ho detto cinque è molto bravo ma non è mica con me con me c'è Gens ma si ho capito questo è cabaret senza canovaggio sai che stanno tutti dicendo che si divertono un sacco che dovremmo fare i comici si facciamo un'altra visione c'è Christian Cicci Bagnoli Cicci lo conosci? uno dei più grandi chitarristi in Italia questo poi mi mandi Cicci allora Cicci ti comunico che ho sentito oggi il Gallo ok con il Gallo Team sarete al Bravo Caffè giovedì e io vengo e riprendo il vostro concerto Cicci state attenti che viene anche nei bagni per cui dopo fa lui le misure e dà il primo premio a qualcuno piuttosto che un altro Cicci stai attento salutami Galation e tutti gli altri è Roma Cuba ok tu e Gallo Cicci no eravamo a Cuba eravamo a Cuba c'era Giovanotti c'era un po' di gente i musicisti eccetera c'era Stefano Senardi che era addirittura della casa psicografica beh fantastico un mio amico vedo vedo io giravo sempre con la telecamerina vedo che da dietro mi rubano la telecamerina uno mi ruba la telecamerina non so se era Saturnino o qualcun altro e va in bagno io sto zitto ok sto zitto lascio che facciano poi uno o uno andavano in bagno io sapevo cosa andavano a fare beh ma lo facevo io quando andavo a scuola andavano a filmarsi il pisello io lo facevo quando una ragazza lasciava lì la macchina fotogramma io ci fotografavo i piselli li rimettevamo lì dopodiché dopodiché quando ha finito tutto di nascosto mi rimetto la telecamera dietro io naturalmente immagino se uno mi porteria la telecamera io non me ne accorgo aspetta allora cosa faccio ci alziamo prendo la telecamera poi faccio filmo la faccia e poi vado giù la faccia poi vado giù c'è scusa ma che cazzo stai facendo no perché devo associare la faccia al pisello visto che i pantaloni si capirà quali sono la faccia al piede e gli ho filmato quindi ho i piselli nudi di tutti mai mandati in onda però sono lì in archivio perché io sto soffitto poi filmavo eh perché ah perché riconoscevi dal pantalone cosa cosa dice Andrea eh no 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 sono nelle mie nelle mie tv capito perché proprio questi che sono stupidi saranno filmati il pisello nudo ma chiaramente il pantalone si vede che tipo di pantaloni ha eh certo quindi tu associando la faccia ai pantaloni puoi associare il pisello alla faccia è molto semplice capito questa cosa questo è un insegnamento molto questo è un insegnamento di cosa stavamo parlando stavamo parlando di tuoi musicisti molto bravo e del fatto e del fatto che il il coso quello che succederà eh nel tuo concerto è una roba secondo me molto bella perché perché le canzoni a parte che l'equipo 84 ha tra le canzoni più belle che che siano state ad esempio 29 settembre il giornale radio è diventato telegiornale ecco perché compare quasi a pieno schermo la Cesara Buonamici che dice ieri 29 settembre poi oggi 30 e poi ci sono molti amici vediamo venteniamo quella è la canzone di Battisti quella di Capanna ormai è diventata quella di Capanna 29 settembre puoi fare un pelino un pelino GR1 ieri 29 settembre seduto in quel caffè io non pensavo a te guardavo il mondo che girava intorno a me poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che lei vedevo il mondo che non è proprio non mi ricordo più allora dunque devo dire che 29 settembre è secondo me la canzone che ha segnato la rivoluzione nella storia della canzone italiana sì Renzo Albre addirittura sostiene che abbia decapitato il beat che l'abbia finalmente ucciso non so se sei d'accordo con lui io direi insomma mi fido perché lo ritengo no 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 ma te lo dico io allora prima di 29 settembre la stragrande maggioranza dei brani musicali che venivano fatti erano cover di brani stranieri 29 settembre è intanto un'idea come hai detto anche tu prima è un film non è una canzone ok perché mettere un giornale radio è stata un'idea adesso non lo so in dieci persone hanno detto che hanno un'idea loro se non sbaglio giusto anche di più forse comunque un'idea tua di mettere un giornale radio credo sai che ci sono dei miei colleghi artisti una ultimamente perché sai che per il compleanno di Lucio Battisti degli 80 anni mi hanno intervistato in tanti è stato un mio collega amico che ha scritto da qualche parte sui social che io racconto delle grandi palle e che sono un grande falso è incredibile come tu parli di Battisti c'è qualcuno che ti aggredisce quindi io Battisti non lo so lo conoscevo appena comunque dicevo che 29 settembre ha rivoluzionato la canzone italiana c'è stato il primo brano fatto da autori italiani attenzione perché se noi è incredibile le persone non lo sanno ma la stragrande maggioranza ma anche Scende la pioggia di Morandi è una cover erano quasi tutte cover allora tutte canzoni straniere di cui si beh avevamo passato degli anni a godere di questi 45 giri che arrivavano dall'America dall'Inghilterra con dei pezzi straordinari e noi con i primi giradischi come facevamo a fare cover esatto e di fatti il segreto di allora era beccare quella canzone che avrebbe avuto successo tant'è vero che i primi a beccare ben già cosa non facile sì i primi infatti poi ascoltavate Radio Luxembourg per beccare passavamo le notte con Radio Luxembourg Radio Carolina e varie stazioni che andavano e venivano e sparivano e tornavano esatto io mi ricordo mi fermavo a Castel Maggiore perché l'unico punto in cui beccava si è tornato il Carabinieri cosa fare qui ascolto Radio Luxembourg cosa? l'unico punto in cui becca come Radio Luxembourg sente questo qui e senti uno che parlava e dice ma scusa ma cos'è questa è musica il Carabinieri ha detto questo è matto stia un po' più accostato con la macchina non mi ha fatto fare allora non c'è neanche il palloncino e quindi no prima no mi è piaciuto perché prima è stato bello no? devi sapere quando abbiamo mostrato il video di noi che andavamo sull'autodromo di Monza no? come al solito questo è il segno dei tempi una ha scritto e il casco a Monza ma allora a parte che allora non era obbligatorio il casco poi eravamo nell'autodromo di Monza e poi era il 1518 non c'erano neanche le moto vabbè comunque dicevo che 29 settembre è stato veramente un momento assolutamente rivoluzionario quando uscì quel disco io rimasi stupito al di là che non sapevo che la copertina fosse stata fatta da Schifano però al di là di questo che la foto di Schifano è un disco della Madonna è la prima volta e poi dietro è Dall'amore che nasce l'uomo che è il brano preferito da Maurizio e lo odi allora mi chiesti che lo odiavi questo pezzo è vero ma lo odiai perché non eravamo pronti e ci in una televisione diretta ci dissero fate una canzone perché non fate una canzone e Franco dice facciamo Dall'amore che nasce l'uomo ragazzi non lo sappiamo fare con le voci eccetera l'abbiamo fatta lo stesso e l'ho odiata ah l'hai odiata eh sì perché è venuta male ma chi ha scritto Dall'amore che nasce l'uomo Guccini io modificato Guccini ecco comunque ti dicevo che questo è una canzone meravigliosa è lo spartiacque della storia della canzone italiana cioè la canzone italiana diventa canzone italiana chi interpretava questa canzone l'equipo 84 dice niente eh eravate il miglior gruppo allora o c'era qualche gruppo che suonava meglio chi c'era di altri gruppi ah ti dico i gruppi Rox come erano i Rox ma avanti no dimmi ne altre no no dimmi ne altre fammi scegliere no 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 tu mi dai allora come allora per la prima volta ladies and gentlemen l'era del beat analizzata da uno dei protagonisti Maurizio Vandelli il protagonista il principe boom ma andiamo Rox come erano i Rox i Rox erano bravi erano bravi erano inglesi venivano dall'Inghilterra venivano dall'Inghilterra avevano tutta questa messa in scena gli inchini le cose che discutibili però funzionava come primitive di male erano bravi avevano questa cosa che venivano dall'Inghilterra erano molto bravi giganti erano molto bravi venivano dall'Inghilterra ma stai scherzando no eravamo tutti insomma i discografici non erano proprio deficienti trovavano degli artisti che funzionavano insomma diciamo che a livello italiano avevo delle preferenze anche se non te le sto a dire ma puoi dire a questo punto mi puoi dire delle preferenze anche musicali uno può avere delle preferenze musicali a me piaceva dall'amore che nasce l'uomo te ti dici che si fa cagare allora quindi ci sono delle preferenze mica bisogna essere d'accordo chi erano i tuoi preferiti tra i vostri gruppi conterranei gli scarafaggi chi non gli scarafaggi i Beatles ma no gli italiani non mi viene nessuno mi dici lei facci lei non lo so non te lo sto no perché ad esempio non te lo so dire i Nomadi come erano? i Nomadi? eh io ho prodotto per i Nomadi e arrangiato ho difeso il mio amore ho difeso il mio amore cover di Nighty White c'è a Tindimodi Blues vabbè l'unica colpa mia se facevano tutti la cover no e per dire che mi stai schiacciando 20 minuti che mi stai schiacciando alla cossia no per tornare al discorso che ho fatto che 29 settembre aveva rivoluzionato perché ma che no come potete giudicare una cover cioè anche i Nomadi poi ho cominciato a fare Guccini però con Dio è morto però hai capito? sì ma dopo 29 settembre ho fatto Blackberry Way tutta mia città insomma sono tornati indietro che è Blackberry Way dei Move ho capito anche un Angelo Blu una cover sì I can't let Maggie go sì che non la sapevi fare quando sono venuto a trovare quando sono venuto a trovarti non so no sai cos'è? che non l'ho mai suonata con la chitarra e allora non so gli accordi dato che ha anche 3000 accordi quella canzone senti una cosa a che ore sono? tu hai detto due cose sparagli tu hai detto due cose belle che mi hanno colpito quando? quando ci frequentavamo che ci vedevamo sempre che toccosti a cantare la prima è questa quando eri Redroni quando ero Redroni adesso è un Greyroni ah l'esima volta allora tu mi hai detto che il successo ha trasformato voi maschietti in femminucce no sì ho detto che ci ha dato i poteri delle femmine a noi maschi nel senso noi maschi quando c'era l'approccio con la ragazza era un lavoro che durava anche mesi e poi qui e poi là e dai però cosa fai stasera cosa non fai cosa vediamo due palle anche e mentre una ragazza se a una ragazza piaceva un ragazzo bastava facesse poi portava a casa fatto il successo ti dava questa chance che spesso anche noi potevamo fare andiamo e c'erano i gruppi c'erano i gruppi certo c'erano c'erano bello il sorriso che fai quando dico c'erano i gruppi spero che mia moglie si sia già addormentata non credo vabbè ma non la conoscerai ancora no si però che cosa si però le dà fastidio senti parlare di stella no no era stella fantastico vabbè puto stella fra l'altro era anche tua manager ciao stella adesso arrivo non era tua manager anche si cioè lei si occupava di te prima purtroppo si perché purtroppo perché mi ha sposato perché abbiamo fatto il nostro figlio no purtroppo purtroppo no bello e quindi l'altra cosa che mi hai detto che mi ha colpito molto è stata questa tu avevi smesso totalmente di cantare no quando sei tornato a cantare e vi tornarono sul mare eccetera tu mi dicesti una frase che mi colpì mi dicesti ti ringrazio e ti odio perché ti ringrazio perché hai contribuito a ridarmi il successo ti odio perché so cosa significa perdere il successo questo mi hai detto che è una frase profonda infatti vedi la cosa che è rimasta di questa cosa qui è che ti odio ancora no non è vero pirla no è vero è vero è vero cioè chi è che ho letto che una grande artista ha scritto che si è messa a fare qualche cos'altro e ho letto oggi sul sul Corriere su Repubblica sui giornali che posso leggere e ha cambiato mestiere dicendo la cosa più brutta del successo è smettere del successo ed è molto più pesante che l'inizio insomma quindi in effetti quando ti rendi conto che qualcosa non funziona più e voglio dire quando hai successo tipo tu fai una canzone di successo fai il 29 settembre sì pensare a quella dopo c'è da morire cioè tu devi fare una canzone dopo che eguagli o batta il successo di quella prima credimi non è facile nemmeno per i monoskin che hanno degli alti e bassi secondo me nella scelta delle canzoni e anche se sono straordinari io li amo molto però voglio dire ci sono è un lavoro tremendo battersi tutte le volte ma forse per questo secondo te è per questo che gli artisti poi non è il tuo caso ma molti si autodistruggono perché vengono sopravvalutati cioè loro si sentono cioè le pressioni sono troppo forti tutti quelli che sono drogati sono distrutti ce ne sono un casino no io mi sono fatto qualche canna durante gli successi più belli ma questo volevo dire no però tu tu sei sempre stato molto lucido anche nella frase di dire so cosa significa perdere il successo a parte il fatto che adesso comunque tu ormai sei uno standard che sei Maurizio Vandelli fai spettacoli adesso fai quello di Lucio Battisti che sei il 12 però al di là di quello sei sei ormai è una roba consolidata ma in televisione tutti sanno che è Maurizio Vandelli i ragazzi sanno che è Maurizio Vandelli e quindi i ragazzi chi è il ragazzo più ragazzo qui è Cici no Maurizio ottimo self control vedi ci sono tanti che parlava di self control il pezzo no ottimo self control il tuo il tuo cazzo ma ci caschi sempre ma no ma io no no perché poi la gente lo è allora 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 Maurizio ma se parli di Battisti subito c'è qualcuno che ti aggredisce perché sono tutti di parte io lo suono Battisti mi ha pure fatto molto male ricordare la sua storia vedi quindi sei un mito da tutti i punti ah questo sono io aspetta che voce che voce che canzone fa finta di sbagliare no 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 scrivono anche di loro che voce che canzone stasera divertimento emozioni a non finire l'Equipo 84 sono stati i Kings italiani beh insomma i Kings magari no però beh i Kings secondo me erano anche meglio dei Kings esatti Beatles a proposito ma voi avete invitato i Beatles voi avete vi siete fatti una Roll Royce ma scusa cosa hanno detto i Beatles intervistati da eh non mi ricordo mai come si chiama sull'intervista che gli hanno fatto in cima al Duomo in cima al Duomo ma non l'ho vista con l'intervista no è scritta non ci sono non è video e gli hanno chiesto secondo voi chi è il miglior gruppo italiano e John Lennon ha detto l'Equipo 84 perché li troviamo i più i più nei tempi cioè i più up to time up to time esatto esatto questo hanno detto i Beatles sul Duomo sì è che quando l'ho rincontrato io là dove? a Londra quella volta quella che mi ha raccontato prima sì mi ha raccontato prima non gli ho detto che lui mi aveva detto sta roba non gliel'hai detta no perché se no ma una volta mi raccontassi che ti hanno presentato Paul McCartney sì in un tavolo mi hanno presentato Paul McCartney però il buon George Gomesky che anche lui non c'è più uno dei più grandi mi presentò dato che io portai quella serata insieme a me a sentire i Blossom Toes Diti dei piedi in fiore si chiamava il gruppo dei Gomesky prodotto a lui fantastico portai quella sera con me il regista dell'aperegine dunque Marco Ferreri sì e la moglie li portai con me perché ci eravamo incontrati in giro per Londra George Gomesky dice great direction il più grande regista italiano la moglie e io avevo notato qui c'era una persona qui c'era un'altra persona qui c'era un'altra persona fumo si fumava ancora nei locali e lì c'era una ragazza molto bella io mi incanto come al solito e io la conosco io la conosco io la conosco intanto George Gomesky è davanti con la presentazione arriva a lei e dice she's Jane Asher dico Jane Asher ma non è la la donna di lui this is Paul McCartney guardo c'era Paul McCartney che era tutto così eh poi si rivolge a me e dice di me lui è Maurizio Vandelli il leader del gruppo beat famoso in Italia Paul McCartney mi ha girato il culo non mi ha più cagato per tutta la sera se diceva magari io ero lì che volevo chiedere senti non mi dimmi due robe parlami di te niente non mi ha cagato proprio ma perché forse perché è pirla non lo so allora sai che ho notato guardando delle foto recenti di sia di Paul McCartney che di Mick Jagger sì che in Inghilterra non esistono i capelli grigi ah sono tutti no sono tutti non vengono su i capelli grigi io sono biondo ah perché tu sei biondo sì ah e non vengono i capelli grigi ma neanche in Italia ci sono tanti che hanno i capelli grigi no però Paul McCartney Mick Jagger devo dire che è sempre la pubblicità che in Inghilterra i capelli grigi non ci sono Gomelsky era il produttore degli Yardbirds Yardbirds era stato anche manager dei Rolling Stone sì sì non solo a Sanremo quando portò gli Yardbirds a Sanremo lui avevano già parlato ma tu c'eri quando portò gli Yardbirds ma è vero che eravamo in coppia ma è vero che eravamo in coppia no eravamo in coppia con il Renegades e loro erano in coppia con Lucio Dalla credo a fare Pap Boom Pap Boom con Lucio Dalla e ogni volta con Bobby Solo e questo non può esagerare che la mia memoria è grande ma è vero che Jeff Beck andò via non c'era no no c'era c'era Jeff Beck non solo alle prove c'era poi il resto non lo so alle prove c'era perché arriva sto ragazzo vicino a me io avevo una Firebird Gibson Firebird fiammante che praticamente avevo solo io in Europa e una Keith Richard perché ne avevamo comprato due insieme da Nanni a Roma Keith Richard io e Keith Richard solo che lui aveva preso quella bella e io quella di Marva ma perché? perché c'era una filmè bellissima che ha fatto questa e lui mi ha detto I like this one tac e Nanni ci ha fatto un prezzo particolare ci ha venduto due Firebird eh ma perché eri conchistrice da Roma? perché era quel periodo dove andavo a casa eccetera eravamo andati lì a vedere c'era una chitarra eh ok non è che sapevamo che c'era la Firebird però Mick Jagger non l'ha incontrato Mick Jagger l'ho incontrato due volte eh tre incontrato personalmente cioè in quel locale era il bar una volta l'ho incontrato in un market di ragazzi a Londra e gli ho detto do you remember me mi ha fatto non si ricordava e una volta l'ho incontrato da Mario Schifano ah perché Anita Pallenberg stava con Mario Schifano io credo di no tu credi no ma no ma si dice che stesse con era un'altra c'è stata Nicoletta so con Mario ma non so non so di Anita Pallenberg se io non lo so devo dirti che lo so no va bene va bene va bene senti ti volevo ti stavo dicendo la Firebird tu avevi la Firebird da Sanremo la Firebird da Sanremo ma affermante praticamente unico in Italia che ho stato cacchio di chitarra ma arriva prima delle prove l'ho lì che scrive ding 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 ma arriva uno e mi fa posso in inglese posso provare la tua chitarra lo guardo era tutto sudaticcio un'acne pazzesca spettinato e le unghie a lutto insomma ero lì questo ha un po' il sistema mi ha detto va bene due secondi perché devo provare due secondi che devo provare se presi in mano la mia chitarra l'ha fatto mi la mi insomma io guardo giù dicendo che cazzo è questo qua guardo giù c'era Gomeschi che fa this is Jack Beck era Jack Beck ma non c'erano cioè non è che c'erano molti mezzi per ricordarsi che faccia aveva Jack Beck allora no allora non era come oggi che c'è i video solo che era tutto unto con l'unghietta lutto le cose mi ha fatto un po' scrivere la chitarra dopo non me ne fregava niente se era lutto era bravo è bravissimo è andato anche lui è morto lo sai sì lo so lo so perché muoiono tutti vai non dire quella frase che mi hai detto fuori onda no perché si sono vaccinati no non te l'ho mai detta no quasi no 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 perché perché sai prima di tutto cioè questi artisti non mi filosofare questa storia no questi artisti hanno fatto una vita direi abbastanza intensa tutti diciamo che non tutti hanno fatto come ero l'istosica davanti di fare a cambiarsi di sangue ogni anno per rimanere più giovani ok c'è chi ha fatto peggio andava in vista a portare il grano vabbè fa niente quella è un'altra cosa non fare quindi quindi tutti questi hai capito inevitabilmente inevitabilmente facendo una vita così quando arrivi a 70 anni 80 anni così insomma non sono 80 anni di una persona normale serena che ha tutto un braccio a sinistra un'altra volta a piccarti i maroni e no ma non solo no ma tu devo dire che tu hai fatto una vita non tanto disordinata minchia hai fatto una vita disordinata voglio una vita disordinata affratto tu Vasco era fan tuo vabbè sono fan è una parolona l'ha detto lui cazzo mi ricordo quando ti ho portato a presentarlo che io ti ho portato da Vasco lui era emozionato mi ha raccontato sta cosa che lui a scuola cercava il banco dove ero stato io se avevo messo una firma eccetera però adesso magari me l'ha detto Vasco no te l'ha detto sul serio adesso sono io che cerco dove ha scavato delle firme lui vabbè chi cazzo vuol dire e quindi hanno fatto una vita abbastanza disordinata e per loro 80 anni sono come 120 per una persona normale questi hanno fatto la vita ti ripeto tu per quanto disordinata tu l'abbia fatto prima di tutto ti sei fermato in tempo quando è arrivata l'eroina dentro al mondo della musica ma non credo che l'eroina sia arrivata dentro al mondo della musica ha colpito qualcuno ma ha colpito tanti nel giro no ha tanti guarda quando io ho chiesto a Ricletto ma perché cavolo lui diceva ho iniziato nei primi anni 70 e gli ho detto ma perché cavolo era già morto Jimmy Hendrix Janice Joplin Jim Morrison perché hai iniziato se perché perché allora giravi c'era quello che ti accordava la chitarra che si drogava i tuoi musicisti si drogavano quello che faceva lui si drogava addirittura anche quello che guidava il tir si drogava se non ti drogavi non eri parte del sistema questo mi ha detto Eric Lepp quindi non sono molto d'accordo tu hai smesso in quel periodo no no un momento chiariamo che io non ho mai usato droghe pesanti però tu hai smesso nel periodo in cui potevi eventualmente rischiare perché stava arrivando no io ho sempre io ho pensato sempre che primo drogati si nasce cioè non credo si può smettere qualsiasi cosa puoi smettere non è vero sono palle quelle della ah non riesco più a smettere tutte palle sì è un è un bisogno del cervello un bisogno mentale che poi sconfigge quando cazzo vuoi puoi dire basta non voglio più sentire parlare e smetti quando cazzo vuoi con qualsiasi droga se non con quelle pesantone esatto ok quindi quindi ti ripeto mi hai fatto una domanda perché io invece ti faccio una domanda perché da Modena sono usciti tanti artisti perché non avevamo voglia di fare un cazzo a Modena ci troviamo barbarici dicendo come cazzo facciamo a sconfiggere la la noia di un futuro dietro uno sportello di banca eh allora ci mettevamo lì al bar a pensare delle cazzate noi abbiamo fatto delle cose quel bar lì eh il che era il Gran Italia il bar Gran Italia era un bar dove nascevano delle idee ma dallo scherzo a Victor abbiamo in venti abbiamo fatto lo scherzo a uno Victor che scherzo avete fatto eh gli abbiamo detto che Bonvi avevamo capito che era un licantrobo Bonvi ci stava anche lui nello scherzo eh beh per forza doveva fare il licantrobo alla fine e cioè gli veniva fuori il sangue dalla bocca urlava e Victor eravamo andati finiti in un boschetto a parte che facevano delle robe sai quando sei tirato dentro la scherzo non ti accorgi di aver cagato cioè arrivava a Bonvi e c'era il Pia da subito che cercava l'unico sento puzza di cane bagnato e che non comunque alla fine tutto si svolgeva in un boschetto vicino a un cimitero tutto organizzato il posto con dietro nascoste le cose il ketchup eccetera dove il Bonvi doveva avere la sua trasformazione vedeva il ketchup tutto insanguinato con la strappata la giacca con le mani fatte nere così e qui davanti solo che quando siamo andati diverso perché dovevamo fare lo scherzo finale siamo passati in fila vicino a questo cimitero la sfiga è che non c'era una piena ci doveva essere ma era nulo e peccato peccato stavamo passando vicino al cimitero è venuta fuori una luna così con una lune colorato meraviglioso e tutti abbiamo cominciato sembrava più vero a noi che a Victor siamo passati davanti a una casa lasciata andare una vecchia cascina non c'era niente non c'era niente non c'era niente non c'era niente passa il Bonvi viene fuori un cane per fortuna la catena e comincia ad abbaiare solo al Bonvi e noi oh porca ma c'eravamo convinti noi che fosse davvero un incanto insomma fatto sa che il giorno dopo e Victor allora Victor ha assistito alla trasformazione eravamo passati per un posto dove c'erano tutte delle montagnole di gessi bianche Victor è scappato così velocemente che è passato dentro e caduto nel gesso tutto bianco è andato in questura e la questura è andato fuori aveva una polizia con i mitra a cercare perché avevano capito il giornale il giornale il resto del Carlino la gazzetta di moda la mattina dopo scriveva Victor il buono non ha paura dei vampiri non aveva capito un caso ma facevano erano delle cose creative ai Guccini com'era? Guccini era quello che rompeva un po' no Guccini era lì era lui era Guccini Guccini era l'uomo colto l'uomo saggio non veniva molto spesso eravamo più noi stronzi tutti belli i nomadi? no i nomadi erano a novellare erano dalla provincia erano a novellare no ma non è colpa mia se erano a novellare ridi? ma i nomadi mi hanno detto che 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 Mogol o Battisti o Mogol andarono da loro perché volevano dargli le canzoni ma volevano che loro facevano solo quelle e loro hanno detto di no teniamo Guccini non lo so pensa che io sono andato a portare una canzone ai nomadi in macchina con Dattoli quindi se hai Dattoli la canzone la poteva essere io vagabondo le hai portate tu? io l'ho portata a moda dicendo secondo me questa qua spaccata in culo e passere e perché gliel'hai data loro non l'hai tenuto tu? perché secondo me non era adatta come cosa che insisto anche se quel mio amico mi dice che sono matto che racconto delle balle che sono false io grazie a Giorgio a Gomeschi anche lì andai a sentire i procolarum sì disse a Gomeschi andiamo via che mi ha rotto i coglioni i procolarum ma tu ne capisci di musica cazzo i procolarum rompevano i coglioni sì ma cazzo era una roba strabittosa ma tu c'eri quella sera? no e allora state zitto allora a un certo punto ha detto Giorgio vado a fare pipì poi io ti aspetto l'uscita andiamo via io vado per non far vedere che perché bisognava passare davanti al palco so se ero lo Spichisi o lo Marquis quindi vado a fare pipì mentre esco dal cesso parte White Shade of Pale ah ecco parte White Shade of Pale e resto praticamente ipnotizzato e ho cominciato a pensare questo è un capolavoro corro da Giorgio e dico fermati un attimo poi adesso è andata come prima non si può avversare dove l'avversare questa canzone perché volevo farla io e Giorgio alla fine mi porta nei camerini e mi presenta anche lui non c'è più Kids no il cantante come si chiama va beh bellissimo c'è quel concerto in Scozia all'aperto e allora e allora e il quale mi dice sarebbe un grande piacere perché ho detto mi piacerebbe farla in Italia eccetera mi fa io ho qui solo una lacca perché non ho capito o non gliel'ho chiesto o non ha se non era ancora uscito il disco o se lui mi dà la lacca mi regala la lacca ce l'hai ancora no perché io cosa faccio l'ascolto un casino l'ascolto e l'ascolto e dico qui l'equipe farebbe un salto che potrebbe farsi male perché allora perché era tutto un Emmons organo Emmons sì e allora vado alla ricordi dove c'era io ho scritto che c'era ho detto che c'era Saint-Just invece mi ha corretto questa persona che mi dà del falso e su questo ha ragione c'era Colombini faccio il figo butto la lacca sulla scrivania e dico la frase se questo è la fane dik dik spaccami e tu hai regalato ero il tuo amico aspetta sì e dico però il testo devo farlo io me l'ha detto allora mi ricordavo il nome del cantante scusami del procolare ma adesso non mi viene in mente e quindi vabbè dico il testo lo faccio io dopo un'ora il testo l'aveva già fatto a mogola Colombini ha mandato subito sulla lacca sì per un po' non ho saputo niente e dopo Lucio ha prodotto Gary Brooker Gary Brooker ha prodotto senza luce t'hanno fottuto no volevo fare il testo io certamente non l'avrei fatto così bello come la faccia certo però tu hai fottuto i corvi con Ben Bang non ho fottuto i corvi io ho fatto la mia strada ho amato Ben Bang ho voluto fare Ben Bang ma non solo i corvi allora ho fottuto anche la ragazza dei clan perché perché succede che i corvi questo mi raccontò Angelo scoprono Ben Bang la registrano nel frattempo Ben Bang ha molto successo e la casa di corvi dice un momento fermiamo i corvi perché se la fanno l'equip io questo non lo so adesso forse lo sapevo no no te lo sto dicendo perché e lui diede un pugno con la casa di corvi che gli finì la carriera dei corvi a chi diede un pugno? a quella a casa di corvi che aveva fermato spero uno che non puoi saperlo che spero fosse uno che sta sulle balle magari non lo so avevamo cinque anni correvamo sui cavalli io e lei contro gli indiani eravamo due cowboy Ben Bang ti colpo lei Ben Bang lei si voltò Ben Bang ti colpo lei Ben Bang a terra mi gettò comunque cantavo eri bravo? ero sai quante volte sento dire sai che incontro delle persone eri bravo oggi andavamo un hamburger sanguinolento la tua salute e no era cultura media è eravamo in questo hamburger qua e c'era una persona che ha chiesto visto che aveva confidenza con me quella che vendeva quella che era dietro a Mancone ha detto ma cantava cioè ma come cantava? fermati fermati allora io ho detto eri bravo perché? perché è da tanto che non ti sento cantare da vivo quindi dopo il 12 maggio mi dirai al 12 ti dirò cazzo Maurizio porca puttana che canna che c'hai magari eh? magari no allora ragazzi fantastico ascolta è finita stiamo finendo stiamo stiamo finendo dai perché io ma no c'è una certa ma che ma che ma che ma che no 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 allora no c'è delle foto molto belle però vabbè dai lasciamo stare ma sì rivediamo tra 10 20 25 quindi prime canzoni che potrà attaccato quando decida ah questa questa è bella cos'è? l'unica canzone che non hai cantato silenzio tutti ma scusate tutti silenzio tutti tutti chi? facciamo finta che c'è molta gente tutti silenzio e quindi che frega lui fa non c'è nessuno no c'era è tutto incredibile silenzio tutti non facciamo pubblicità allora Maurizio Vandelli per la prima volta invece poi dopo dici poi troppo sigaretta non posso più cantare invece devi tornare a cantare niente scuse Maurizio Vandelli reciterà per la prima volta cantandola senza musica un angelo blu visto che non la so suonare mettici sotto non so no niente sotto no ci vuole una musica spagnola vabbè ok mettigli sotto un po' di ecco grazie com'è che fa? ah scusi no aspetta sorrido a lei e piango per lei io mi specchio negli occhi suoi un angelo blu vola in cielo è finita la batteria dimmi che è finita perché se no non si può fare queste cose Red tu riesci a denudare un uomo nudo ma pensa ma poi questo va in onda non so no no spero di no perché guarda che era bella era molto bella sì ah guardi è bella molto e poi dopo si partiva con la versione musicale ah ecco quella quella del sì tu denudi un uomo nudo tu denudi un uomo nudo bella molto piaciuta tu denudi un uomo nudo però sembravamo cricicrocche sembriamo un po' cricicrocche no cioè a zellig se tu scrivi sotto zellig non ti dicono normale oppure colorado con il ramellino mamma mia ragazzi bella serata psichedelica bene ah ragazzi io vi saluto veramente cordialmente dove vai sentire la voce di Maurizio tutti i suoi eneddoti è stato un sogno meraviglioso grazie mille cioè guarda che allora oggi ci sono stati solitamente io ho migliaia di commenti ci sono stati pochissimi sai perché? perché la gente rimane così pochissimi commenti perché non scrive ma no perché è meglio quando la gente scrive perché sannoia scrive invece lì rimanevano tutti così capito super bellissima diretta vedo un regalo meraviglioso questa questa diretta serata indimenticabile perché perché vedi tu hai una storia da raccontare quanti oggi hanno una storia da raccontare? sembrano spot di che cosa? il spot mi avete fatto passare una splendide serata grazie Maurizio vedi serata meravigliosa grazie grazie e cantare chi è quel signore? questo è bellissimo chi è quel signore? questo è bellissimo ciao Maurizio che emozione la storia della musica italiana Vandelli un abbraccio maestro Vandelli Maurizio ti vogliamo tanto bene simpaticissimo ma è Gesù Cristo ah no l'icona confermo le storie queste nami organiche poi ti spiego cosa sono confermo le storie sono troppo affascinanti per interromperla è vero buonanotte a tutti grazie è vero siamo rimasti così vedi te l'ho detto bellissima serata grazie mille siete uno spettacolo vedi siete due anime della madonna ma perché in genere ti scrivono che sei un pirla no no grazie Maurizio per interessarmi Maurizio ti dovrebbero non due ore ma due anni solo a raccontare mi avete portato indietro negli animali scusami un momento uno scrive grazie Maurizio e tu leggi grazie Maurizio ho detto grazie Maurizio no hai detto Maurizio ho detto Maurizio ho detto che spacca Maroni ciao Maurizio confermo sono rimasto incollata è troppo bello ascoltarli complimenti anche al figlio di Maurizio serata fantastica Beatles or Stone l'ha già detto Beatles Vandelli una volta al mese con Red splendida serata super sempre interessantissima Maurizio torna presto sempre ma con l'avezzi non so cosa c'è hai fatto qualcosa chi ti ha ciulato la Fender non so ti ha ciulato la Fender no la Gibson no la Gibson me l'ha ciulata Jerry Jerry Gala Jerry Gala me l'ha anche detto un giorno arriva lì e mi dice oh è tanto che ti devo dire una cosa e io dico che cosa sai chi ti ha ciulato la Gibson io ma che Gibson la Gibson Les Paul che avevo nel camerino e dove ti l'ha ciulata me l'ha ciulata lui ma dove perché era un fan in un camerino di un locale di quello che era persone vere splendida serata Maurizio patrimonio UNESCO visto che volevi commenti gran bella serata ci sono andati in silenzio a ascoltare la bella storia incantato dalla serata grazie ancora a te e altre serate così come passa il tempo caro Maurizio rompe i maroni alla gente oppure fa le prove oppure fai i concerti grandi mitici siete fantastici mi è piaciuto ascoltare tu tutto potresti chiedere a Maurizio Vandelli della sua bellissima ritmo è una Becker con il battipenna rosso Rickenbacker ah Rickenbacker perché gliel'ha corretto quel battipenna rosso che risate che rospiti c'era ancora chiedigli se ha avuto mai chitarra o André chitarra o André no è proprio vero che il tempo non esiste splendida serata Angel Blue la cover di Can't let me go dei Honeybox I can't let me go esatto davvero un principe Bromley tu dicevi meravigliosi grandissima star allora è tanto che aspettavo una cosa o non così a Gerry stasera hai superato te stesso un'intervista spettacolare vera storia di musica Maurizio Tandelli vedi che ha da stipigliare per il culo serata toglice che ha detto Nandelli ha chiesto no è stato è stato davvero bello bello ci vediamo il 12 maggio al Teatro Duse di Bologna anche tu no io vengo a riprendere bene e poi magari anche racconti vuoi che venga sul palco a raccontare una barzelletta? una barzelletta no però vuoi che ti racconti una barzelletta? vuoi che ti racconti una barzelletta? no allora basta non le sai raccontare no invece sono molto bravo me lo dicono tutti sai sì allora propongo a a Gray Ronnie grande pandelli ad stipigli per il culo propongo a Gray Ronnie di mettere una al posto nelle sue televisioni settimane di mettere la serata della barzelletta dove vi romperai i coglioni a tutti con delle barzellette orrende ok allora finiamo con la presentazione Ronnie Rosso vi presenta Vandelli ancora una volta con voi bello 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 mi piace questo bello ok io saluto tutti i tuoi aspettatori ok bello aspettatori aspettatori tutti ragazzi dovremmo andare in lanti 22 minuti ma non posso dire che vado avanti con voi da solo lasciando Maurizio adesso me lo voglio abbracciare per bene perché perché devo dirvi che devo dirvi che ho passato bellissime serate con lui anche un ultimo del anno venne in casa mia gli scoppiò un pedardo in mano e gli ho dato i prodotti sai quegli oli senzali ma hai preso per il culo su tutti i social però quando l'hai pubblicato ovunque io pom questa cosa che esplodeva pirlo è il tuo pedardo che era scoppiato a troppo no era mio aspetta aspetta fallo col telefonino che viene meglio cosa una foto una foto insieme ma siamo ancora in onda sì certo che siamo ancora in onda perché scusa la barzelletta voglio la barzelletta finiamo con la barzelletta no nessuna barzelletta stasera c'è Maurizio facci una foto con questo che sono sicuro che viene bene perché la barzelletta quella che mi ha raccontato non va bene niente ci sono delle barzellette belle guarda lì guarda lì chi è lei la dà? Roberta appunto credo Daniela sembrava che avessi detto chi è lei la dà? la dà punto interrogativo e invece era la ro allora bello grazie alla compagnia sì è stato molto bello riunione in Q84 come fai a fare la riunione in Q84? non c'è più non c'è più è spenta una telecamera si è spenta una si è spenta una telecamera dun dun allora cosa fai? ah sono stato io che ho picchiato male ho picchiato là ho picchiato lì perché c'ho i tasti della regia perché faccio anche la regia pom 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 allora avevo un professor che mi chiamava è stato un grande piacere buonanotte ciao a tutti buonanotte ciao chiudiamo